Bene, va 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 bene, andiamo con Beyond Good and Evil, finiamolo, la possiamo fare, forse. Basta Astro, salve, buonasera, per la seconda live di questa giornata, piena di live, ma bisogna finire Beyond Good and Evil. Oh, l'audio, scusatemi, scusasse, scusasse, salve a tutti, so che non mi frega niente di Beyond Good and Evil, però io ormai sono entrato e devo finirlo. Mi piace, è bello, e lo sto riscoprendo con grande sorpresa, perché appunto tante cose non me le ricordavo, tante cose erano meglio di come me le ricordavo, tante cose sono peggio di come me le ricordavo. Live anche domani mattina? Di mattina? Di mattina? Io non ho mai fatto live di mattina, chissà cosa potrebbe succedere, potrebbe essere interessante, una live alle 9 di mattina, mi attacca a arrivare il pad, però. Questa musica di merda, la sento? Aspetta, scusa, che qui non arriva il cavetto, il cavetto non arriva, ok, ecco il cavetto. Salve, salve, avete mangiato? Pensavo Astro, no, 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 Astro è uscito all'aggiornamento, ma no, no, niente Astro. Allora, andiamo a fare la gara 1, io non mi ricordo qual è la gara col passaggio, ma prima è bene fare tutte le gare, non lo fa Metal Gear Solid col card, ragazzi, ma i colori! Ma bellissimo! Secondo giro per la novellina, oh! Ma che bello! Ovviamente è un gioco Cartoon anni 2000, non poteva mancare a livello di corsi, ovviamente. Perfetto stile Gioca cartoon anni 2000. Sono tutti perdenti, Mistake! Io non ho mai capito se le musiche di questo gioco sono state create apposta per il gioco in modo stupido o se esiste davvero il gruppo che canta quel gruppo, non lo so. Non c'è molta competizione, vabbè, era la prima, la prima era facile, dai. Dopo le gare c'è la missione finale? Eh, sì, sì. Cioè, poi c'è una, c'è due missioni. Le gare di Jack 2 non erano male, assolutamente. Sì, le gare di Jack 2, Jack 2 erano tanta roba. Quello di Jack 3, insomma, c'hanno un po' cacare in deserto. C'hanno molto cacare, anzi. Tanto cacare. Per quello Jack 3, insomma. In Jack 1 non ci sono gare, no. 20 secondi per scappare e tornare a fare la calcetta. Stanzo ne la odio. È Peter! Ma poi ma cosa dice? Un pochetto di benzina. È il mio... Madonna, bellissimo però. C'ha molto le vibe da Star Wars Episodio 1, eh. Non mi ricordavo così. Quasi un peccato che non si sfrutti mai a dovere l'overball in questo gioco. Vedi, questa c'è più difficile. Non so che non si può colpire. Non so che non si può colpire. Che si può fare turbi? È il secondo lui? Olè, vai. Ottimo giro. No cazzo! Non ci si fa? Ma non... Ho i turbi, che idiota! Ho i turbi! Pensavo più che c'hanno i turbi. Ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Perdenti! Sono tutti perdenti! Miss J! Sì! Hai la PS3 moddata? No! Nel Jack 1 c'è la corsa dal bacino più calza. Hai ragione, però fa cacare. Cioè, i Jack 2 sono veramente corse, vere. Cioè, gli altri personali, protagonisti. Cioè, come si dice? Opponents. Come si dice in italiano opponents? Sfidante. Le Gary Jack 2 con le moto che si danneggiavano dopo un urto? Sì, 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 sì. Però, ricomincia... No, ricominciavi da capo, no. Sì? Non mi rado più. Ricominciavi da capo? Le orse di Ratchet 2 fanno cacare, dai. È un domanda. Le orse di Ratchet 2 fanno cacarissimo. Vorrei tanto entrare con il mio account su PS3 per recuperarmi i giochi e i trofei. Mi dà un loop infinito con passo del temporaneo, eh? Ma scusa, prova a entrare dal computer. Dal sito di PlayStation. Se mi riesci ad entrare di lì, puoi entrare anche dalla PS3. C'è ancora Portogallo-Franco? Sì, lo so. Ma non me ne frega nulla. Devo giocare. Che tanto... Cioè, questo gioco va finito. Allora, quindi, andiamo alla 3. Ma la finale degli europei quando è, sapete? Siamo pronti per la terza gara. Siamo pronti. Se la stanno passando male, Miss Jade. Siamo pronti per la ter... Dov'è la terza gara? Un pochetto di benzina pare di noi dove... No, devo vedere cosa dice il testo, scusatemi, eh. Un pochetto di benzina. Beyond Good and Evil Songs. Siamo a metà, siamo a più di metà. Music. No. Other music. No. Non ci sono. Come si chiama? Spanish. Spanish. Spanish bar? Spanish bar? R. Ah. Ma chi l'ha fatta sta manzone di... La rende molto intensa. Ma come? Beyond. Good. Che nome di merda. Good and Evil. Tre volte. Evil. Spanish bar lyrics. Nessuno l'ha mai scritte. Ma perché non è spagnolo? Sono parole a caso? Un pochetto di benzina pare di... Luindo coce? Quando tu è il meccano... E sta fa' petare il turbo... Pare che chiede se è il migliore, è il migliore. Ole ole... Quanto ruedare del sol... Eh? Ma cosa vuol dire? Ma non è spagnolo. Sono parole inventate ste... Spagnolo. Un pochino di benzina per la sua bella macchinina. Quanito il meccanico deve far saltare il turbo affinché tu sia il migliore e il migliore. Quando splende il sole, quando splende il sole. Boh. E dice solo questo, dice. Non c'è il tre. In che anno è uscito? 2003. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Un pochetto di benzina e me la sono già scordata. Allora. Matatoi. No! Terza gara. Dov'è la terza? No. Ma dov'è la terza? Ahi! C'è uno e due. Forse nel due c'è la tre? Ricchiezza grafica. Sì, sì, non è male. Posso mettere il mio account PS5 sulla PS3? In realtà l'account è l'account PlayStation. Non è che c'è un account PS1, 3, PS5. C'è l'account PlayStation. La PS3 automaticamente rileva i dati della PS3. Si trova oltre i laser? Aspetta, mi sa incliccato lo spaghetto. Un pochetto di benzina. Oltre i laser? Vicino al matatoio? What? What? Oltre i laser, tu dici? Stiamo mangiando stasera il pollo. Ma cos'è sta roba? E fuma. Ah, un veicolo scontrato. Su PS3 ha un profilo PlayStation di... Ah, eh, allora, allora, eh, allora, allora, anteose. Ma i matatoi si ha... E i matatoi si entra dalla corsa. Laggiù. Ah! Ah! Allora andiamo a vedere laggiù. Perché ho visto, c'era delle casse. Può darsi che ci siano degli oggetti. Un pochetto di kailole sulle... E che ne pensi del Portogallo? Non lo so. Non lo so, io non so niente del Portogallo. Io so, io... C'è qualcuno, qualche fisioterapista fra di voi? Che io quando... Allora, dai, zitto. Quando io fò così, sento scrocchia, sento fa... Cosa vuol dire? Che mi devo far vedere da un fisioterapista bravo? Dai, no? Quando fai, io sì. Ah! Senti fare... Tipo... E... Ho paura. Che è? Che è quella roba? Per la vostra sicurezza. È meglio che vi annuntaniate. Tutto il corpo scrocchia... Eh, ma vorrei non scrocchiasse. Credo che sia... O le articolazioni, o comunque le... Le giunture tra le articolazioni. Oppure il muscolo, non lo so. Di sicuro è perché sto troppo... Con muscoli tesi del corpo. O così... O... Vabbè. Cioè, dovresti vedere in che posizione sto ora. Streammare fa male alla salute. E penso sia vero, davvero. Ole ole! Ole ole! E' un... Comunque il fatto che abbia i cicli di giorni e notte... Mi sorprende. Mi sorprende più oggi che non a quel tempo. È incredibile. Ole ole! Sì, vabbè, vabbè, ciò. Qual è il peggior godo forse? L'ultimo. L'ultimi due, ovviamente. Il 2018. All'ultimo non l'ho giocato. 2018. Per me è il peggior godo fuori di tutti. Ma tranquilli che fra una decina, ventina d'anni... Siamo tutti d'accordo. Mi sembra di vederla, la gente. Ah. Ho visto il coso volare. Madonna. Vedrai che ho preso... Preso fresco. Dai, sembra che stia... Ah. Fra una ventina d'anni, eh... Go do forco e la serie rovinata da quell'episodio del 2018. Eh, pensare che all'epoca tutti lo lodarono. Bah, hai ragione, ti ricordi. Tutti impazziti, eh. Ma vedete se non va a finire così. Ve lo dice un ciucco. Sei fuori dal tunnel? Eh, no. No. E mi piace solo la Plague Tale. Eh, sì. Alle hop! No, metti il comando alle hop. Dai, metti il comando alle hop. Vediamo se si fa. No. Qualcuno riuscire... No, aspetta, ve lo faccio io, dai. Alle hop, no? O la Hong? All'epoca... Alle hop! Spera. Alle hop. Aspetta, 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 aspetta. Alle hop! Vabbè. Basta. Allora, qui c'è da esplorare. Alle hop. Che ha le dolce? Potrebbe essere un difetto della postura. Eh, so. È l'età. No, no, l'età. Per estremare... Laggiù non c'è niente. No, ma non è che mi fa male ora. È in generale che prima mi sono messo a scrocchiarmi il collo e ora mi fa male tutto lì. Però sento questo... Ti fa quel... Sempre, no? E quindi io più che sento... Più che lo faccio perché mi sembra di farmi bene, no? Magari faccio malissimo. Allora, andiamo su... Uuuuuh! Una... Magari! L'entrata segreta si trova sulla terza... Manta magnificenza. Perfetto. Metto la data e archivio. Sì, danni all'articolo. Qual è il gioco nato di D.O. preferito? Eeeh... Raiman. È lì che bisogna andare. Sony, doppia H. Nino è riuscito a scaricare le vecchie piantine dei mattatoi. Pare che la terza pista del campionato passi giusto sotto le mura di Cinta. Abbiamo trovato un varco nel muro abbastanza largo. Mura di Cinta? Andiamo all'isoletta. Andiamo all'isoletta. Andare all'isoletta. Prendere il sole. Sotto all'isoletta. Andiamo all'isoletta. Buonasera. Sonia. Sonia, fan numero uno di Beyond the Devil. Eh? Sono queste le gare che fanno cacare. Andomani, via. Andomani voglio le tia. Via. Le tiavamo con Andomani. Vediamo cosa c'è. Ah, sì. Questi fanno cacare. Ah, no, vabbè. Ma non è che fanno cacare. No, è vero, sono male. Però fa cacare, mi ricordo, fa cacare come si controlla il veicolo in Ratchet 2. Poi non lo so, magari non mi ricordo più. Madonna. Una volta quando mi alzo pigato mi scrocchia l'osso del ginocchio. Voi. No, l'osso del... A me mi scrocchiano l'osso delle gambe quando fa le scale. Quando ogni gradino mi fa... Però dipende. Ce l'ha anche Mimma a quest'osa, quindi penso che c'è aggiornato. Sta per avere il colo di Sabacu. Eeeh, beh. No. Rhyme è capovolice sui rumi, sì. Allora. Dov'è? Allora. Ma non c'è il retro bottega della torre qui. Sabacu è fred... Fredi... Eh, fredi, frego. Perché ha tradito la sua consorte? Io, ragazzi, ma non mi fate i cazzi vostri, eh, ragazzi. Fatevi i cazzi vostri. Sabacu è fraffio. Cosa per dire? No, basta. Basta, Sabacu. Un pochino di dolore al collo del ricò che fa croc, che fa croc... Che boia. Ma... Ma io ho visto che qui c'è un'entrata. Ma qui non torna un cazzo. Ah no, è quella là. Non so se... Non parliamo di Sabacu, giù. Già, altra sera parla di Kuro Lili. Ora, non parliamo di Sabacu. Oh, l'ultima gara. Cioè, l'ultima... E ladre! È un overcraft... No, è una bici. Non lasciatele sfuggire, Miss Jake. La scampata bella. La scampata bella. Oh sì. E alle... La musica è bella. E' zitto. Oh mio Dio. Oh mio mio. Spettavolo Gossorso Gossorso Fine Mori un po' Mamma mia Va bene Canzone preferita di Neck E il mondo insieme a te Il motivo per cui hai fatto la canzoncina Curriculare è ispirazione o disperazione? No, disperazione no Dispirazione Voglia di farla Quante peli sono? 8000 Eeeh Stanti Non so quante sono Buonasera a tutti Buonasera Visto uscito? Sì Visto uscito il soundbot So E non l'ho ancora preso Non lo prenderò mai Five Redeem con soccorso Posso prendere Oh Le acque territoriali Direzione Ignota Ignota E' finita la RAM Torna indietro Desidero che suoni Dragon Ball GT Quello fu lei Via Via Vabbè Devo vedere che accordi sono Dragon Ball GT It's for you and me You know That one really should be free Oddio no Sono facili Si può le fa' Dofo Dai Dofo 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 Che si può Diventare speciali Per Uuuuh Guarda lì Un'altra nave affondata dai dom Perciò ci proverò Quanti eroi Coraggiosi speciali Combattono per te Ma l'ho già fotografata mi sa Boh magari un'altra specie Che spettacolesza Eh no Non è un'altra specie Cosa L'hai trovata Ero sicura Che fosse solo Una leggenda di pescatori Poi è bellissima Questa cosa Che ti fa Stare nel mondo Così Però c'è C'è Vedi qui Dove Insomma Si vede il bordino rosso Che ti fa credere Che lì non ci puoi andare Perché finisce il mondo Poi invece c'hai il salto E ci puoi andare E puoi esplorarti Tutta quest'altra parte Anche se non c'è un cazzo Però per l'epoca Poter andare così Era una roba Cioè Ehi su PS2 Nel 2003 Venivi dalla PS3 Con Crash 3 Che avevi la barchina lì Nel motoscafino Cioè Giorgiovani Giorgiovani ti fa stare Nel mondo Tu devi Eh Meglio la Seeker Il primo Dragon Ball No Ma ha detto Dragon Ball GT Dopo si suona Dragon Ball GT E non ci sono Se che No non è Stai zitto Ancora Ma sono tutti uguali Sti ladri I ladri I mostri marini Di BGE Mettono ansietta Sai cosa mi mette Ansietta a me La vita La vita Metto ansia Più dai mostrini Di BGE B 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 Aia Ma aspetta Ma aspetta Ah Oh my gober Oh mio Ah mi ha autoriparato Grande Grande Ma non c'è tempo Tempo Ma non c'è grande Ho bevuto un po' d'acqua Ragazzi Aia Hai scampata bella Dai è finito Dai Boia Bello è morto Dio buono Vabbè Sicuro che era acqua No era Succhino Ti ho detto Drambo GT Perché è molto semplice Eh 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 Allora Intrattieni più tu Che la partita Boia Con il pallone Che corre Sulla pista Veloce Sta cercando di entrare in porta Ma viene inseguito Dai Giocatori Che continuano a inseguirlo La povera palla Non riesce a liberarsi Ed ecco Mamma mia Ma perché devo fare ste figure Allora andiamo ai mattatoi Sai che Giorgio Magno Ha fatto una canzone Per la squadra del Monza 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 Ambico Mamma Io non devo bere L'acqua Sto sottovalutando le sue capacità Con l'Ukulele Nessuno Può darmi Del fifone Con l'Ukulele Però che palle Si doveva giocare Monna ragazzi Ce lo so Si può Diventare speciali Spesso ci proverò Giorgio Al pulsino Ma io Ma io Che sei Che cosa ho mangiato Che sei attivo Ma è che Il pomeriggio Io Mabbiocco Infatti sarebbe interessante Prover a fare live Di mattina Ma io Io sono più Sveglio la sera C'è un po' da fare È una cosa Biologica C'è un po' Cioè non è Non è che io Dopo pranzo Sono così Brillante Dopo cena Si Allora Chi ha Correggiato Chi ha Correggiato Io no Allora Hai vergogno Vergogno No Hai vergogno Mi vergogno No no Giochiamo Si fa dopo Si fa dopo Dopo Ora no Ora non è il momento Ora mi vergogno Non mi va Non mi va Allora Qui intanto è notte Andiamo al mattatoro Dai giù Con il maialino Sulla os Ti sto facendo screen Fallo adesso Ma fallo adesso Ma no Vergogno Dai santo siamo poi Dai siamo tutti a vedere Ronaldo Ronaldo Io lo so Non è così Aspetta Si può Vintare speciali Per se ci Proverò Uh Torna Torna Aspetta La devo studiare Un secondo Allora Qui Dragon Bojiti Dragon Bojiti Dragon Bojiti Io lo so Mi vergogno Perché non la so Non l'ho mai provata Proviamo il ritornello Volontà No questo non è il ritornello Allora Pet Allora Re minore Questa è manità Per Goku In ogni incontro Si nasconde Uno scontro Lo sa Ci sono tregue È la storia Che pro Eh no Vedi Hanno scritto I raccordi male E non ci sono tregue È la storia Che prosegue Dragon Bojiti Uh Troppo alto Aspetta Ma perché Io mi voglio Un fa Un sona Un sona Un sona Un sona Stasera Si è scaricato Perché un sona Come man fa più Senti un sona Vista Non si vuole Un sona Lai alla horda Ragazzi Vabbè È la storia Che prosegue Dragon Bojiti Un sona Senti Senti che non Un sona Via Facciamo una più Arta Allora Via Si vede Sto cazzillo E si inizia A sgomma Qui Un pigia più Abbastanza Sulle corde Dragon Bojiti Stiamo tutti Qui Beh Aspetta Bojiti Siamo tutti Qui Con Dragon Super D Così Dragon Boj Perché Ogni sera È La magia La magia Che Ci manca Degli accordi Sto sudando Come una Stronza Sto sudando Prendiamo Questo qui Eh vedi Dragon Bojiti Siamo tutti Qui Non c'è un Drago Più Super D Così Dragon Boj Perché Ogni sera È Sve Boj Perché Ogni Sfera È Perché Ogni Sfera È La magia Che Risplende In te Dragon Bojiti Is For You And Me In All That One Ready To Be Free Dragon Boj Sa Come Fin Qui c'è un'altra cosa Sa Come Fin Che qui va Da La Al Sol Ma c'è un'altra Accorda Nel Mezzo Dragon Boj Sa Come Fin Ra Qui c'è un'altra Ma c'è un'altra Fidi Sera Dragon Boj Perché E Alla Fine Chi Vince Andate Affan Culo Andate Affan Culo Voi E Dragon Ball E Goku Grande Ma Non c'è Tempo Grazie Dragon Twitch Dragon Twitch Tiriamo fuori L'accendini Grazie Allora Gara 3 Gara 3 Dove si va? Di qua Sinistra Siamo comunisti Passiamo dalla sinistra Non è a fare la calzetta No ma l'ho suonata male perché non l'ho mai provata Devo imparare l'accordo Dai In spawn Cosa succede? Dai che in Twitch regalava Allora la devo farvi Regalato 5 sub Allora si fa Grazie Grazie Facciamo Facciamo questa Grazie Va bene Grazie 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 Allora Sono più harta ancora Dragon Ball GT Sono gay prima scherzato Eh? Dragon Ball GT Siamo tutti qui Non c'è un drago più Super di così Dragon Ball perché Ogni sfera è Ogni sfera è Ogni sfera è Aspetta Viene bene Viene bene Allora riproviamo Allora piano Dragon Ball GT Stiamo tutti qui Non c'è un drago più Super di così Dragon Ball perché Ogni sfera è Vedi? Dragon Ball perché Ogni sfera è Aspetta No non è questo No non è questo Dragon Ball perché Ogni sfera è Senti che Che progressione Giorgio Vanni Che progressione è? Dragon Ball GT Allora io lo so Perché Perché io lo so Che si può Diventare speciali Non mi torna I miei schucer Perché schucer? Via Full screen non mi metto Ma mi metto un po' più grosso Ma full screen no Per pazienza no Full screen no Allora Allora io lo so Non è Non è la minore Io lo so Non tu Si può Diventare speciali Perciò ci proverò Quanti eroi Coraggiosi e leali Combattono per noi Oh e ci sono questi accordi qua Ma non tornano Io non so che divvi Beh il friato Il friato Il friato Il friato Il friato Io lo so Che si può Diventare speciali Perciò ci proverò Quanti eroi Coraggiosi e leali Combattono per noi Ok Volontà Che ce l'ha È il più forte dei forti Niente lo fermerà Se gli va Può cambiare le sorti Di questa umanità Questa umanità Bello E dov'è Persa Per cocui In ogni scontro Si nasconde Uno scontro Lo sai E non ci sono Tregue È la storia Che prosegue Dragon Ball GT Siamo tutti qui Non c'è un Scusa Non c'è un drago Più super di così Dragon Ball perché Cosa c'è? Ogni sera È La magia Che risplende in te Dragon Ball GT It's for you and me No Dragon Ball GT It's for you and me Basta Me la devo un po' imparare Non lo so Vaffanculo tutto Accidenta A me Può bastare Per stasera Basta così Dopo vi faccio Qualcosa di Oh Sei bravo Eh lo so che son bravo Ho studiato All'accademia Del 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 prisma Cosa penso Per Saiyan 4 Su Melior 3 Volevo qualche cancioncino Di Ryman No basta Smesso Ma strano Che non mi tornasse Che vuoi dire Che era troppo alto Allora Vabbè basta Allora Prima intanto Vinciamo la terza gara E poi Entriamo nel Cunicolo Guerra di Piero Spala di Piero Spala di ora E dopo un colpo Sparai ancora Finchè non sarà Il momento Mi ricordo Bocca di rose Idea André Boh ma tutti Studiati stasera Bocca di rose Addirittura Che bello C'è Giovanni Dai ci sta Ole ole Ce la faremo Ce la faremo Ce la faremo Ma sono terzo Ma sono terzo Dai zitto No Sono un Chuchers Ma cosa vuol dire Sono facili E conosciute Queste Già Già Il dolce nera Me ne ho rivolto Qual è il dolce nera Ma io non sono mia Suona Gara 4 C'è una 4 Non mi mette l'imbarazzo Ma davvero Me lo vuoi ciucciare No dai Basti No Basti Abbiamo un pubblico Etereogene Il me Madonna Manca poco scatarlo Sul microfono Espirandetti Fattelo fa Il treno passa via Bisogna vedere Chi treno è Se è un treno merci Insomma No vabbè Dipende Il treno merci Porta tanta merci Cosa No sono tre C'è me Comunque sono sempre più difficili Lo dici come se avessi esperienza Eh In che senso Perché Scusami Jade Sono primo Dai Basta Doppia acqua Acqua Doppia acqua Doppia acqua Quindi c'è anche la quarta Io non ricordavo ci fosse una quarta Andiamo a fare la quarta Allora Forse nella quarta È il percorso Allora C'è anche la quinta Dovremmo dimostrare il nostro valore Miss Jade Non paiono molto amichevoli Non paiono Paiono Io caro Ho già perso No ma in questa gara qui Che c'è il percorso Me lo ricordo Credo Io credo Credo Io credo Che sia Sì sì È qui È qui È qui È qui È qui Mi ricordo È qui A un certo punto Si salta Dio caro Primo rigore della Francia Davvero? Ma dicevo Quando è la finale Delle europee Quindi ha vinto Cioè sta vincendo la Era 0-0 Vero? Quindi era 14 luglio Ok Quindi è settimana E sabato prossimo O domenica Il 12 Il 12 Credo sia giovedì Quindi Sabato Quindi sta vincendo la Francia La Francia Bene bene Cioè bene A me importa Un portuna Un portuna Un portuna Un portuna Un portuna Domenica Ma scusa Ma se giovedì Se giovedì è il 12 Sabato è il 14 Ha segnato Cristiano Ronaldo Ma allora non è Per la Francia È per il Portogallo O Cristiano Ronaldo Improvvisamente è diventato La Francia No Ma mi dunce a me Ce la faremo Ce la faremo Per un soffio Di Petapro No Sono arrivato il secondo Sono arrivato il secondo Non ce l'ho fatta Ho Perzo Senti 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 No Sto sudando come un capriolo Armare Madonna Quindi ho perso Non so Mi fanno la testa Ma non ho vinto Francia Clock clock Però ascoltami Cioè Calmate Cioè Anche me La chitarra Non è una chitarra Cioè Avevi pazienza Cioè C'è dei limiti Oh no No Mi è arrivato un buon infedo Un milione Mamma Ormai Certo Certo Sì No Oh Accidenta Allova Hai un amico in me Un amico in me Se la strada Non è dritta E ti mezzo Ma sempre Tu sapete Ti basta solo Ricordare Che Tu hai un amico in me Mi sto perdendo male Si può rifare Si può rifare Si può rifare Ah sì No Non si può rifare No forse era nella 3 allora No ma non posso vincere Ultimo giro Non ce la farò mai È impossibile Non ho nemmeno i turbi Forse senza turbi Non si fa Segnato il terzo rigore Ma che cazzo dite Ce la faremo Ce la faremo No è impossibile Dai Ce la faremo Un pochetto di benzina Ma poi non si vede Nemmeno la linea del treguardo Portogallo sbaglia Il terzo rigore Infatti Ci aveva un'altra squadra Allora Asseganto Il terzo rigore La Francia La Spagna Oddio Bon Ma L'Affanculo Dai C'è Di pazienza 159 Per il portogallo Finalmente Spartito bene Finalmente Il terzo rigore Siamo in testa Miss Jade Se vince la Francia Non mi resubbo più Ma perché Ma cosa c'entro io Con la Francia Il palo della porta Ha preso vita E si è fatto Segna il portogallo Io ormai Non so più Non so più niente Non ci credo più Ha vinto la Francia Ma non è Sì Ma che cazzo Abbiamo vinto il campionato Ma sì La chi Loro La Francia Che cazzo Portogallo Portogallo Francia 0 a 0 Lo vedi 0 a 0 Ah sono ai rigori Ah ma stanno facendo i rigori Cioè Hanno fatto Supplementari Quindi ha vinto la Francia Davvero Ai rigori 0 a 0 Ha vinto Dopo quando Dopo quattro rigori Boia Va bene Viva la Francia Viva la Francia E infatti noi stasera Stiamo giocando Un gioco francese E allora Noi tutti Adesso Cantarim Vai Facciamo l'inno francese Esatto Ormai siamo ubriati Tutti Completamente Allons Fase La patria Allons Fase S'arrivé Se sono usi La tironia Le ginazze Sa sebe E la 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 E la 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 E la 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 Zazzà Fine Mangiamoci una baguette Sì Infiamoci La baguette Quanto odio quest'uomo Sono stato bravo Domani maglia di Mbappella Mbappé Mbappé Boh No Di Dibala Hanno tirato una bomba A mano in campo Come Davvero Non dice Non dice Non dice Queste cose Allora Quindi che cazzo Devo fare Finito tutto Si va nella terza gara E si entra Nel percorso Meraviglioso All'Evan Son La Bistro Un balè Dai Bala Giocano In Argentina E poi Gioca Dove Di fare E' Bannato Quello Vole Ma non lo so A me Batti Me lo Cucci A me Poi Fatemi Bip Basta Ci sono i bambini Ragazzi Vabbè Oddio Bion Bion Dio Di certo I bambini Allora Devo entrare Nel percorso Che non so Dov'è Dov'era A un certo punto C'è il buco Non è qua Non è qui Non è qui Terza pista Un varco Nel muro Però anche stosa Che deve entrare Nella pista E' bella E' bella Stasvi Che dalla pista Ti entri nel mattatoio E' bella Come idea Eccoci Eccoci nel mattatoio Cosa dice oleone Dice ole 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 Spagnolo Ma sera Sasaki Grazie per Sasaki We're on the right road Cos'è quel cazzino Oh Ma lui è fissato Fa la foto Guarda dove si va Grande prende il turbo Prende il turbo Prende il turbo Boh Spero di aver trovato La strada Fanno organizzare una pizzata Sabato Prosto Oh Ma dove mi nascondo Testa di cane Maia Maia Ci siamo Boh è ben finito Che stai facendo Hai rotto i coglioni Sei rullini Perfetto Perfetto Sai cos'è il calcio storico Fiorentino E' un calcio storico Di Firenze Che giocavano A pallone Con le mani Il tuo rullino è finito Bene Ti trasferirò una perla Jade E ti ricaricherò il rullino Siluri Miss Jade Non hai nient'altro da dire Mister Siluro A ore 6 Però è un bel gioco No qui bisogna rompere Le cose Non riusciremo mai a passare Piuttosto La ridurrò in briciole Con un siluro Piuttosto Oh mio dio Ma i giochi di Ebb esistono Il primo è il primo Il secondo Mancio Odyssey Poi c'è anche Quell'altro Che non mi ricordo Come si chiama Che non ho mai giocato E poi Soulstone Forse nel 6200 avremo Un altro Sicuramente È stata una grande delusione Stanger Brattac Non ho mai giocato L'ho comprato L'ho comprato Mi pare Sulla Wii Eh sì Sulla Switch Non l'ho mai giocato L'ultimo animale Si trova nello spazio Sì sì È nella Nella cometa Ma me lo viene a dire a me Ma lei non sa Chi sono io Caccio storico Fiorentino Mi fa pensare a formaggio È del caccio storico Fiorentino Vai Cazzo Mio dio Ci siamo va Ci siamo Ok Identificazione Conto Ok Un set di POD Ripristina completamente L'energia Il POD Riparatore Ripristina l'energia Del veicolo Il POD Riparatore Ripristina l'energia Del veicolo Il POD Riparatore Ripristina l'energia Del veicolo Una scatola di kebab Ripristina tutta l'energia Vabbè Il POD Sì Ok Allora Qui ora diventa una missione Mi pare molto bella Beh la serviamo Anche se non servono a niente Certo Il protaggio automatico Quindi Era scritto in francese Senti Scusate Ma io cardo però Cardo Tengo scalores Tengo scalores Eh Così Così Grazie Oh 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 Pare sia l'unica via Ma non so dove ci condurrà Ci deve essere un modo di entrare Eh sai Basta passare di qui Sai Vai Ah no Ah perché devo usare Il veicolo Verso la gloria Verso l'infinito E oltre Non faccio A montare Lì su Così Non ci deve andare Con il veicolo Scusate Non ci deve andare Con il veicolo Sì c'è l'acqua Ma che cacchio fa A portare il veicolo lì Dove al borzo Quello che è Devo salire di qua E qui Aller Aller Vabbè Danzo Danzo Sì c'è l'acqua Sì c'è l'acqua Non so perché non pensavo a sparargli Aia 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 dove io sono arrivato lì devo spingere le casse verso le bombe ok però lì c'è un'altra strada c'è un'altra strada che non ho intrapreso aspetta eh no è chiusa è chiuso qua chiuso non è capito allora mi ricordo qua mi ricordo bisogna scendere ero spazio che fa spazio è già fotografata ah ok il bufo erectus ti 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 grazie ancora jade devo salire sopra ma come si faceva non mi ricordo più ahhh facciamo una foto allora le ho segnate sulla mappa ok facciamo una foto questo aggeggio vabbè ce la potete fare dai ho bisogno di prove se no non esci di lì o però scrivete la cosa su sono mia tastona Giorgio Giorgio Panni abbiamo bisogno di altre tre foto Sony prima di chiudere il numero 514 sii prudente va bene io sto qui da solo e parlo con me stesso questa è la teoria del caso no basta no non scrivete niente dai su ci saranno altri argomenti eh salame ungherese o milanese ungherese no quello milanese non mi piace troppo non mi piace lo milanese ho visto il finale di adventure time ho pianto un casino aia davvero va bello qual è bello che bella atmosfera dragon bolgitti cane di leni io adesso passerò di qui spianata piccante o schiacciata spianata piccante ha mai provato pensato di provare una relazione omosessuale una relazione proprio aspetta li devi colpire i cosi cazzo holy shit oh bravo in questo gioco ci prova tantissimo a essere il più vario possibile ci riesce anche perfetto dalle musiche un po' un po' meno musiche tutte incredibili e poi sparite questa è l'ultima zona prima dello spazio infatti la zona dello spazio è poi abbastanza corta una scatola di kebab ripristina tutta l'energia rai ma di noty dog ok ancora i tarponi oh no sono andati le cose tarponi strani non sbaglio bisogna andare qui sopra non mi ricordo non mi ricordo che viene giù ah lassù lassù ho capito bisogna portare doppia H sopra non mi ricordo non mi ricordo ops l'allero non mi ricordo prima di andare nello spazio ti conviene prendere tutti le opzionali sì sì ma credo avrei preso tutto parliamo di cinema abbiamo visto lo squalo certo che ho visto lo squalo è un capolavoro lo squalo ma siete che mi hai chiesto dello squalo ah dello squalo nelle storie di Easter no squalo è un capolavoro Spielberg fino agli anni 90 ha fatto solo film belli soprattutto i primi no non è vero alcuni non sono lo squalo incontri avvicinati duel Diana Jones colore viola tutti belli bisogna portare la doppia H fanculo ma ma eeeh ricordo che questa parte qui era un po' un po' più rognosina basterebbe che lui entrasse nel cavolo di coso e venisse di qua e invece no non c'ho tempo di tornare lì non c'è tempo forse si non credo ah si hai visto funny games no salvate il senato Ryan e the Spearber ho visto Lucas è stato a Firenze a visitare gli uffizi davvero ma in questi giorni fantastico non ce la faccia ti copro le spalle miss Jade ti spallo le copre grande Lucas eh sarà stato l'antico minario per forza preferite la trilogia del cavale all'oscuro o orzio sto sudando vai dentro che culo che si torna indietro di qua di qua si torna indietro ok ma giocando sto gioco mi lo consiglia 20 euro si li vale permesso amante dell'epoca del rinascimento ma Star Wars è pieno di riferimenti a quell'epoca lì visto Interstellar si purtroppo aspetta 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 no vabbè Interstellar lo devo rivedere troppo che non lo vedo però non mi è magarbato bello si questo è bello ora lo sto rigiocando dopo tanti anni è un po' invecchiato però sinceramente bello devi stare molto attento alla storia perché purtroppo Interstellar mi sta calando io ti sto calando a me mi è calato Nolan con Interstellar no vabbè poi ho fatto Dunkier che meno male che però non piace alla gente qui ci ha messo un segreto aerazione boia cazzo cos'è cos'è Inis grazie mille per le preziose informazioni ma cos'è che roba è che cacchio è cos'è una specie di di uccellino di fuoco De Prestige si no è bellissimo De Prestige film preferiti scorsese non lo so che non l'ho visti tutti però ho visto un mesetto fa ho rivisto The Wolf no meno di un mesetto sì un mesetto fa ho rivisto The Wolf o Ghost Eating film incredibile mi è piaciuto ancora di più di quando lo vedi tempo fa cioè Rico ti seguo anche con giochi meno apprezzati grazie per me questo canale non è solo crash prima cosa è 0dx cosa vuol dire questa cosa cosa vuol dire cioè posso sopportare anche la merda che te bello mi fa piacere se tutti la pensassero come te sarebbe meglio però è giustamente non si può piacere a tutti ma qui è un segreto anche qua cosa c'è qui ingresso funicolare 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 no cosa c'è ieri ho fatto un colloquio tante belle parole ma non vedo nessuna buona infatti mi diverto a seguire te grazie è un colloquio motivazionale cosa vuol dire ho risposto a tutto tranne alla domanda su rfi rfi cos'è ferrovie che sarebbe la società che mi stava assumendo non saputo rispondere perché pensavo fossero ferrovie ah ok e non rfi che è una società interna cioè rfi è una società dentro le ferrovie cosa vuol dire rfi ha iniziato a parlare delle ferrovie e mi ha interrotto vero scartato per questo non lo so non lo so io che ne so ma sai a volte lo fanno apposta non vuol dire cioè immaginati quante gente c'hanno che gli chiede robe cos'è servito ad andare lassù scusami se non puoi oltrepassare la porta gira all'intorno carlson e peters opus 4 vaffanculo cosa è servito ad andare in quel buo scusami non muoverti miss jade ma niente perché era quel buco lì vero sì era questo quindi ora viene anche lui ah giustamente perché c'era la porta ah perché qua era chiuso quindi arrivavo di là e trova ah bello ho capito questo non si può aprire ho capito bello 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 quindi mi sono abbandeggiato sbong ho visto ho visto c'è qualcosa laggiù falso allarme vedete ferroviaria italiana e cosa cambia ha già preso un nuovo boss no il concorso del carabiniero è una bastardata sì lo so c'è un mio amico ci ha provato mi hanno detto le osse molto tristi veramente che addirittura c'è ti valutano anche in base a che faccia hai e sono cioè giudizi completamente a caso perché io posso avere un'idea e te ne hai un'altra se a me e la persona che ti giudica non gli sembra tu abbia la faccia dal carabiniero e ti scartano ma quali sono i criteri oggettivi dietro staroi va bene boia boia scontri incredibile anche quello è un animale aspetta è un animale anche lo lì vedi si nasconde devo aspettare che se ne vada no non se ne va forse devo sparare no no un gioco pazzirello ci sono panzone 60 ho parlato delle ferrovie dello stato in generale lui voleva che parlava solo di rfa la posizione per cos'era magari sono test che fanno così ma non è che hanno magari questi test guardano più la personalità che testano la tua pazienza si non lo so ma non esce più non esce più che poi unipo entra qui e fagli la foto di vi siamo quasi tieni no grazie miss jade grazie miss jade era un colloquio multiple eh allora vedi è normale lo fanno apposta per metterti sotto pressione c'ho un metodo eh me lo ricordo colpisce col disco ma è provato non si può colpire vedi aspetta devo colpirlo qua forse è andato via ok timorea safonifera perché c'è il sapone timorea safonifera aspetta timorea perché c'è il timore il sapone il sapone il saponifera sono cacato sono un po' cacato un po' cacato c'è un ferro da stiro identificazione conto ok una scatola di kebab ripristina tutta l'energia uno star ripristina l'energia di un cuore un cuore uno star io sudo io sudo sto sudando mio cugino ha fatto il concorso carabinieri lui è stato ammesso martedì no perché il loro viso non era idoneo eh sì sì ti ho detto cioè tipo volto non idonea la divisa una roba del genere ma c'è una nostra simpatia se te se te stai su coglioni a chi ti deve fa l'esame non hai il viso idoneo anche che è un altro animale ecco sì oh asdrubale vai un po' a pigiare bottone su tu calma eh a me basaltans perfetto l'aggiungerò alla lista questa parte c'è un stealth con i macchinari che ti vanno a shot è un po' pesantino vediamo non ricordo mi suda le mani oh mio dio certo che ha doppiato sti robotini non ce ne ha neanche provato chiamato si signore carica carica carcin e pittes Preso Chiave triangolare Bel lavoro Bel lavoro Ok E questo Ah no questo è per ritirare fuori i mostrini Ce ne vuole due però Mi serve una chiave speciale Miss Jade Va bene Caro il mio Furbone Dove sei? Eccolo Tac La mossina però Una stupidata Dopotutto Alla scuola ufficiali Lo impariamo al terzo anno Se può essere d'aiuto Le nostre armature resistono ai laser Eh quel 3 anche a me mi ricorda qualcosa Quel 3 lì Guarda se non avevo ragione Guarda se non avevo ragione Vedi che mi ricordavo bene Il logo americano di Ryman 3 E' quello E' quello lì E' quello No Non so perché ci debba avere un 3 E' un mattatoio Però Valisamente il 3 dirai Ma il 3 dai Ricevuto Ho visto il live di oggi pomeriggio Nonostante fossimo poi Sono stati 10 sub Sì Meno male No ma infatti Cioè Lo so che Bianco di indio Anzi E' già tanto se siamo 50 Ma infatti io Cioè Lo streamo E così Non faccio perdere La m3 non è uscita lo stesso anno Non lo so Forse 2004 Però era in sviluppo durante Bianco di indio Sarà una M No è un 3 Ma non so Ah è vero La M di mattatoio Che sta anche Sembra anche il 3 dirà È vero Sembra jack Ma in realtà è un 3 Cioè Tutti i 3 sono uguali Arriverai nella sala centrale Va a scattare la foto Per il servizio Io rimarrò qui A tenere d'occhio La situazione Io non mi ricordo Stavolta di storia Bello però Che belle luci Veramente Ho fatto un bel lavoro Con le luci E' un bel lavoro Signore Qui cosa si fa? Ah devo fare la foto Ah è vero guarda Ah Però è notevole Cioè dai Dio buono Proprio mentre passavaglio lì La sirena Volevi fare altro oltre lo stream Eh sì Mi sembra scontato Vabbè ma io non sono lo stream Io gioco perché giocherei comunque Non sono lo stream Cioè ho smesso da un po' Dio sono lo stream E io già ho dovuto passare tutto questo Spero sia sopravvissuto È vivo Miss Jade Fanno molta attenzione a tenerli così Quindi dove si va? Va a uscire Devo tornare indietro Ma forse c'è il 3 Perché questa è la zona 3 Forse Ma devo tornare indietro così tanto? Vedo l'ora di tagliare i miei apelli Ah Ok Ah giusto Devo proseguire sul Perfetto Sulla stradina Devo proseguire col coso E vabbè Qui devo proseguire Eh sì 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 Ok Eh certo Si continua Sì Sì E anche Prendi la cassa Prendi la cassa Bene Cazzo Cazzo Benissimo Notte Ok Notte rocche Ripristina tutta l'energia Una scatola di kebab Ripristina tutta l'energia Il P.O.D. riparatore ripristina l'energia del veicolo Uno Starkos ripristina l'energia di un cuore Uno Starkos ripristina l'energia di un cuore Sti gutzi Alà est Ok Ok Oh Preparate sarcofagi Sarcofagi Ma c'è sempre il 3 Quindi la M di mattatoio Che è il 3 di Ryman 3 però Qui si salva ma non importa Ricevuto Però qui ci si deve andare qui poi Ricevuto No io non ci posso passare qua Non ci posso passare io Tieni Grazie Miss Jade Va bene E quindi Ah Lì sopra Ok Buonanotte ragazzi Buon divertimento Cos'è che fa uno Starkos ripristina l'energia di un cuore Verso l'infinite oltre Sì sembra un po' Buzz Lightyear Buzzo Hanno luce Cosa Che ha Oh Cazzo Non andava la linea Manca ancora molto Ti ha rotto coglioni Come vado No Non andare Non andare No No Vedi che Il 3 è rovesciato Sì vabbè Ah buongiorno Sì ci mancava solo Pippo Veramente Vabbè Bello Però è avvincente Sono una fan No ma comunque stasera si finisce Un altro paio d'ore penso Boh sono già due sì Un altro paio d'ore No Non mi ha visto Grande guardia Non mi ha visto Oh Madonna Oh Arriva un altro No 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 Gira 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 Per loro è tutto normale Non mi ha visto Che cosa c'è Quì si sale E qui si scende Mi ricordo Bisogna mettere questo Sulla piattaforma Ero 80 Ciao C'è anche l'acqua Prendilo Io sto giocando Ovviamente non è una blind Ovviamente quindi Cioè io mi ricordo Già diverse cose Però Ah Quindi Vedi Mi ricordavo che bisognava Mettere la cassa qua Perché ora ci devo salire sopra E risalgo su Mi sono saltato Tutto un pezzo Va bene Che se ne frega Cioè le deduzioni Le salto Perché ovviamente Oh Tome su stondo Come le bestie Io non faccio spettacolo E do spettacolo come Mio nonno Umbrià con il giorno Della mia comunione Talmente fuori di me Non è Che apparenti Per niente contenti Di portare il mio stesso cognome Datemi eccetera Pessino mi sta cercando Pessino 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 Sono qua Grazie Per 80 In 32 mesi Oggi era cardo eh Oggi era veramente Aspetta Ok Probabilmente Dobbiamo andare davvero Di qua Per finire la missione Cazzo fare Aspetta un po' Sì Ok È il servizio Fa la foto Ah dovevo aggrapparmi Forse C'è qui Lo manda Gordon Ryan Che pizza mangerebbe Pessino Non lo so Non lo so Pizza Ghisa E salsiccia Penso Scendere Allora Visto niente Negativo Niente di compromettere Cerchiamo di raggiungere La sala centrale Salve Io ho paura Di aver lasciato roba Indietro Però Attenta Attenta Miss Jade Atta Madonna Ah Già fotograffata Cos'è devo fare Tutto bene Miss Jade Attendo ordine Miss Jade Carson Peter Sono fuso Non fuso Non fisco più Combattimenti fanno cacare Suu Basta Sto sbagliando qualcosa I miei complimenti Miss Jade Era così Ottimo lavoro di squadra Mamma mia Vabbè Era così Vabbè Lì già Sbucherai nella sala centrale Ci ve Ci ve Cazzo Ovviamente non mi vengono a cercare Firmò Ma dai Ma dai Chiedo autorizzazione a scontrare zona Accordata Viene da laggiù Falso allarme Stai fermo Non l'ho preso Non l'ho preso Stai fai sono bruttine Ma in realtà questa Finora non erano male Ma non li posso colpire allora Cioè Tu coglioni Le colpiscano Le colpiscano Ho visto Anche lui Perfetto I combattimenti Sono la parte peggiore Ce ne sono troppe Ma no Sì diciamo che è un gioco Che vuole essere un po' troppe cose Non riesce a fare bene Forse neanche una Diciamo La storia La storia è la parte migliore Sicuramente E l'atmosfera Però sul gameplay Secondo me Non ne azzecca una E soprattutto Dopo vent'anni Si vive tanto Che Cioè Era molto ambizioso Però Troppo ambizioso Un'ambizione Un po' Un po' smisurata Che Cioè Era palesemente un gioco Che voleva inventare Un nuovo genere Cioè Ha provato in tutti i modi Ma Voleva essere Secondo me Secondo me Michelinze Voleva essere un po' Kojima In questo gioco Cioè È un bel gioco Ma soprattutto Per la storia Se non avessi Una bella storia Secondo me Sarebbe proprio Un giuino Da pochissimo Da Diciamo La storia fa tanto Cioè Se ti prendi Metal Gear Metal Gear è bello Il gameplay La storia Tutto Se Metal Gear Gli levi la storia O stai zitto Se Metal Gear Gli levi la storia Resta comunque Un bel gioco Se gli levi il gameplay Resta una bella storia Qui invece Se gli levi la storia Il gameplay Secondo me Ho visto qualcosa Laggiù Quindi È un po' Sbilanciato Mi sembra di capire Cioè Non è brutto Però c'è Le corse Il gameplay E l'overboard E questo stealth Che non è stealth Le zone I pezzi di inseguimento E le foto Le foto E le foto Gli animali Che Quella forse È la meglio È la cosa meglio Anche quella lì Forse Il discorso Delle foto È la cosa Effettivamente Più Più sensata E di fatto Lei è una fotografa Cioè Ci sta Che lei Sia una fotografa Dove fa Le foto Dei servizi Però appunto Allora fai che Lei non combatte Proprio mai Ci ha messo i combattimenti Ma fanno caccare Allora non ce li mette Le proprie combattimenti Fai tutto stealth E lei è completamente Disarmata E allora si fa tutto stealth Se ci metti la mazza Combattimenti Che prom Ce n'è uno Che è decente Credo che Per beyond 2 Gli sviluppatori Abbiamo scartato Tutto quello Che avevano fatto Finora Hanno iniziato A sviluppare Un gioco Molto bellina Ma io lo spero Per quello Secondo me Siamo molto convinti L'uscita del 2 Ma guarda lo spero Perché l'idea Che avevano presentato Nel 2017 Non aveva nessun senso Cioè Era una Oddio Poteva funzionare Se usciva 10 anni fa Allora si Ma già nel 2017 Era roba vecchia Dai Ci vuole un fusibile Roba vecchia Più che altro Non presentata In quel modo lì Sembra un gioco PS3 Eccoci Servizio Era roba Era roba ah fa vedere le squadre alfa insieme ai doms non dice niente c'è la prova che collaborano tipo la storia è veramente è bella nonostante non sia nemmeno raccontata tanto benissimo a dire la verità che rivedendo l'ora mi sembra molto boh ma qui come si fa? ma ora deve facciare ah ok è macchinoso si fa vomitare no te fai vomitare non fa vomitare fa vomitare ora fa vomitare Dio santo se ne fossi lo di gioia come abbiamo good in Dio ok e nessuno sa niente è orribile allora attenzione però aspetta un po' che io mi sono lasciato roba indietro eh no andiamo a vedere se era qui mi ho lasciato roba indietro non so se erano qua no mi ricordo più forse erano qui se ne fossi sulla base cosa? walking simulator con combattimenti orribili vabbè vabbè fai come ti pare non mi ricordo più dove era bello che i nemici non rispaolano mi sa chi era indietro no era qui guarda che culo qui ci sono andato era qui 3 ne avrei messi dell'art 3 mamma mia su tra l'altro io ho preso il potenziamento e allora posso tirare le palline ma se il potenziamento non lo prendevo non c'era nemmeno quello quindi i combattimenti però fanno pena che stiamo d'accordo però appunto c'è del resto c'è altro non c'è solo questo sul fatto che sarà un prequel non mi sembra che abbia cambiato idea eh si si vedrà si vedrà però tanto boh non lo so boh si vedrà si vedrà io ho pochissima fiducia ok perfetto qui siamo dove ero prima alla fine perfetto ma no devo rifare tutta la strada pod ah ah Dov'è quell'altro? Venivi Ehi, buonotte Perché queste Non sono pensate per il combattimento Basta che scappi e nascondi le scuole Sì, sì Infatti io l'ho ammazzata così Giusto per velocizzare tutto Sennò diventa una rottura dei coglioni Però sono d'accordo che i combattimenti Sono brutti, è vero Però non è un fa vomitare I giochi che fanno vomitare sono altri Sono giochi Tanti altri giochi che fanno vomitare Questo non fa vomitare Ti fa vomitare vuol dire che non riesci a vedere Oltre i limiti e basta Sono d'accordo che li abbia Però Non ha solo quello Madonna Quanta strada devo fare ancora Qui Non si rifà tutto il giro Eh, Callisto fa vomitare Callisto che non ha storia Non ha gameplay Non ha atmosfera Non ha niente Callisto Callisto Bravo Ho fatto Un esempio perfetto Callisto fa proprio schifo Cioè Callisto non ha niente Che si salva Ok Prendo Andiamo Combattimento corpo al corpo è l'unico lato meno curato di questo gioco Considerando la maggior parte delle cose Sì 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 Nasce come Stealth Però appunto dico Se è Stealth Non farmi combattere Mentre loro Ti danno il combattimento Perché comunque C'hai la variante Del combattimento Contro le bestie Gli animali Ma bastava Secondo me Banalmente Che lei C'ha il bastone E lo usa per gli animali Ma quando c'ha le guardie Il bastone non lo tira fuori Così io sono forzato Ad affrontarlo per forza Come Stealth Poi è chiaro Stealth fa anche un po' cacare Di suo Non è di sicuro Un gioco perfetto Non è assolutamente Un gioco pieno Di difetti Per carità Però ha la storia Che è bella Cioè Ripeto Allora Dobbiamo andare all'ultimo pezzo Che Non so Non mi ricordo C'era un'entrata qui Mi pare Qui Ah là sopra Ok Ok Rai mentre Usciti nello stesso anno Fa abbastanza Si Si Rai mentre fa schifo Meno male qualcuno lo dice Tanti convinti Era matrizia bello Trena è una merda Proprio Comunque va bene E Anzi l'ha voluto fare tanto Per come ne parlava lui Vuole fare praticamente Uno Star Citizen Si Punto Cioè Nel 99 Nel 1199 Lui aveva comunque Era visionario sicuramente Però troppo Probabilmente credeva Che la PS2 Fosse Cioè Che la nuova generazione Fosse una roba Fuori scena Non lo so Cioè Cioè Alla fine Questo gioco qui È Un centesimo Di quello Che era L'idea originale Ma che casino Ora Ovviamente Loro Col 2 Essendoci ancora Michel Ansel All'inizio Nel 2017 Col 2 Volevano fare Quello che era L'idea originale Di Beyond Evil 2 Però Probabilmente Probabilmente Hanno litigato Michel Ansel Voleva fare cose Comunque impossibili Aia E alla fine Lui se n'è andato Probabilmente è andato così Però Più davanti c'è la meccanica Che se viene imbriccato Muore senza possibilità Di combattere Ok Quello che voleva fare lui Non penso basti neanche A PS5 Ma lo so Alla fine ho fatto Starfield Quindi Penso bastasse A PS5 Ormai Cioè Oddio La roba del mondo Con i pianeti Però Boh Non lo so Oh my god Oh my god Oh my garden Oh my garden Oh my garden Quindi non li posso ammazzare Cioè Se io li sparo Nel gruppone Pensi seriamente Finire il gioco Si si va finita Dai Beh oddio Infatti è l'una Non lo so Vediamo dai Alla fine Oh Secondo me La parte finale Non me la ricordo Lunga Quindi vediamo Ah ma questi Non li posso ammazzare Posso ammazzare solo loro È preso Tenete gli occhi ben aperti Niente Holy moly Cosa porterò Dopo piano Non lo so Oh state cari Non lo so Vediamo No ma qui c'è la nebbia Quindi Prima di te devo stare Nella nebbia Eh va fatta stealth Si 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 C'è la nebbia Mamma mia Non usolare Non me la ricordavo Questa parte Rimossa totalmente Mamma mia Bravo Sì Sì Eh ho capito Ah ok Devo picchiare la scatola Ok Per non prendere la scossa Dovrò togliere la corrente Questa volta non c'è nulla da fare Vabbè Vabbè La parte stanza sui tetti L'ho fatta Eh Mi sembra meno Che sta cosa lì È ripetitiva Questa è ripetitiva Questa è ripetita ... Quante ha usato ella? Ok, abbiamo di gioco No, 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 no Ah, cammina sulle bombe Ah, ok, segretino Dai, prendi sotto Farà il comando? No, sì Questo? Ci metto la mano Ok, perfetto Era un segretino per avere un cuore in più Un cuore di Zelda Oddio E via Andiamo Credo che ci sono i checkpoint però All... Allora, aspetta un po' Ok No, non ho aperto Un'avete anonime Ecco come trasportano le vittime Fa la foto? No C'è ancora il laserone qua, però Cosa si fa? No 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 Via Ma non è possibile Qui va aperto Dovevo fare? Dovevo fare? Ma scusami Devo andare lì? Eh, ma qui è chiuso Mi sono perso qualcosa? Devo fare foto qui forse allora? No Eh, devo proseguire dove sono i tizi? Ah, devo andare dietro Ah, devo passare Ah, ok Ok, ok Ok, non l'avvo vista Eh, ma è un casino qui Sì Da lì, ammazza dell'arto Mi colpisce mi attraverso Sono indeciso per il trofèo della efic�tera La meccanica dello scambio del cuore È completamente ignorabile Sì infatti Perché gli altri possono morire Però non succede mai Quindi Ti fa capire Che proprio hanno voluto buttare Rode Però non le hanno rifinite E il problema è che poi tutto ne risente C'è un limite per la speed Credo di sì Non lo so Ci sarà un limite spero Non so che senso ha Madonna Non so che senso ha Non lo so vediamo Tra l'altro me ne manca tanti ancora Giri il fulmine No la zanzara Aedes Raimanis Un tubo dov'è La melischi 13 Ah ok Ma questo l'ho già letto Non l'ho letto Non l'ho fatto Il gioco dei dischi Il gioco delle perle La tua prima partita Modalità speed Sì ma Non c'è il limite Basta che la fai Che palle Questi dove cacchio era La zanzara Vedrai la zanzara È dove si trova la mucca Morta Mi sa di sì Mi sa di sì Vinci tre partite Il gioco dei dischi Contro Francis Ascolta Something completely different Questi cosa sono Ah ok È da zanzara sulla mucca È Dio Bisogna tornarci Vabbè lo farò poi da me Non mi ricordo neanche dove era Devi fare la caccia al tesoro Per scostarvi due messaggi Della mamma Sì Quello che si è visto su internet Su youtube Su internet Quanto fa anni Boh Vecchi Dire int Su internet L'ho cercato su internet Internet Lo so Mi dà idea La zanzara Raiman È essere riferita a Raiman Sì sì Mi sembra sia fatta simile a Raiman Uno dei tanti riferimenti Di Raiman Ma come si fa qui? Lui mi vede? Mi vede? No mi vede? No Ma che palle Che palle Area sgombra Vediamo dai Vediamo un po' Cosa può fare Così? Semplicemente così? Davvero così? Pfff Serti serio Perchè? Perchè? Ah Devo prendere un altro fusibile Fusibile Quello che danno della speedrun È che devi comunque raccogliere le perle Per comprare potenzialmente Sì Devi rifarlo tutto Giò Di quegli anni La Ubisoft di quegli anni Faccia giochi perfetti per me Platform Ma faceva giochi Sperimentali Cioè Perchè Dico ce ne fossero i giochi Come abbiamo Giorgi Prince of Persia Giochi abbastanza artistici Anche Ti piace o non ti piace Ma questo E Prince of Persia Ci hanno un valore artistico Che è notevole Questo forse ancora più di Prince of Persia Sto perdendo Pezza Viras Devevi Their preguntas Dio Certo Dio Il 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 Mamma mia Nooo Oh come mi ha preso Ma perché Meno male Meno male non è partito Aia Perfetto Ciaone Aaaaaah Perché interrompe i dialoghi? Nooo Grazie Miss Jade La smetti di rubarmi la roba che tanto non la usi Dai due Damme a me Dammela a me Ma cos'è? Armatura oscura No 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 Armatura oscura Ah è l'armatura oscura Scura Dark Cioè l'armatura delle guardie normali Capito? Ok Dunque 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 Si prosegue No ho lasciato una Eh vedi Ha visto? Ho lasciato un coso Ma tanto che si è andato indietro Quindi Ho lasciato una stanza Ma cosa cazzo dici? Dice nulla Ok Qui bisogna fare la foto Si qui si fa la foto Ecco da dove passano le vittime Va avanti Ti coprirò io Ricordati di scattare una foto Ma cosa fai? Ti metti a chiacchierà Incluso Incluso Allarme Allarme Mi sono fatto male Ok Quindi devo fare la foto qua? A questo? No A questi? Ah Mamma mia Ha proprio la testa di fuori Ah Non è inquietante però Il tuo servizio è incredibile Sony Stampiamo subito il numero 514 di Iris Lo passerò alla governatrice E lei ti invierà il codice per i mattatori Abbiamo fatto il prima possibile Ecco il codice Congratulazioni per i Il codice è all'inizio Credi davvero che queste foto porranno fine a tutto questo? È l'unica soluzione Ma per ora dobbiamo andarcene e riunirci alla squadra Sony Doppia H Abbiamo ricevuto le foto Avete fatto un lavoro eccezionale Incontriamoci dove sapete il più presto possibile Perfetto Allora torniamo un attimo Indietro Che avevo lasciato della roba C'è una stanza Da quella parte Miss Jade Noo Noo Aspetta forse Devo rifare tutto il giro Che palle Ma perché 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 Devo rifare tutto il giro Mamma mia Che palle Non posso Le squadre Alfa e i Doms Dietro ai rapimenti Servizio esclusivo nel numero 514 di Iris Scusami Che riusci sia la scorciatoia Ma è chiuso C'è laser Noo Non mi dico Non mi dico che l'ho perso Qui non si apre più Qua giù ci sono i laser Quindi come fa Da piccino ci rimase bloccata anch'io Ma io Non capisco perché Prima i laser non c'erano Che stronzate è Non c'è l'interruttore Dai ma guarda te Per una cacchio di stanza Forse devo salire Mi ricordo più Ricarica il salvataggio Eh ma ce n'è diversi I salvataggi Sì 1 e 10 1 e 10 1 e 11 1 e 10 1 e 10 5 dai Tanto che se ne frega 5 minuti Sarà No Aspetta Proviamo Mi ha salvato Prima di Di fare la foto Qui non posso più Tornare indietro Porca puttana Porca puttana Nemmeno qua Ci posso andare più Ma perché Perché Mi sembra strana Mi sembra strano E ora devo rifare la foto Ok Ritorno nell'ultima zona Quale Qui C'è un passaggio Non c'è niente Bisogna rassegnarsi Boh Forse ci si potrà tornare dopo Ma strano Ma molto strano Cioè questi laser non c'erano prima Vabbè Pace Di sicuro c'era una perla In quella stanza lì Ma guarda te Eh a lui laser non fanno niente Lo so ma non ce la puoi mandare L'ultimo salvataggio risale a troppo fa Troppo fa Credo Veramente troppo fa A mezzanotte Più di un'ora fa Un'ora e mezzo fa Non credo ci siano perle In zona più accessibile Può darsi che quando finisca la missione Ci puoi tornare Però per ora la missione è inattivo E quindi qui non ci può più tornare Secondo me è così Che scatole Ma poi Cioè per una stanza Per quella stanza lì grigia Che io l'avevo anche vista Dai non è possibile Dai non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Cioè è possibile che qui non si apre Le squadre alfa e i doms Dietro ai rapimenti Mi serve una chiave speciale Miss Jade Mi serve una chiave speciale Miss Jade Mi serve una chiave speciale Miss Jade Che chiave Mi serve una chiave speciale Di quale chiave sta parlando? Ah non le l'ho data Mi serve una chiave speciale Miss Jade Ah ne hai più bisogno di me Cioè non me la fa Non me la fa dargliela Questa si Ma che casa Ah perché mi dice Mi serve una chiave speciale Miss Jade Hai rileva perle? Ah giusto qui Ah Non è possibile Che non ci sia nulla lì Zero sulla mappa Io non ho perso una perla Allora quella stanza Era inaccessibile Mi sembra strano Effettivamente qui non dice nulla Allora niente C'era qualche consumabile Sì Allora boh Meglio sì Mi rompe Non potevo esplorare però Perché Che palle Ci volevo andare Però vabbè Pazienza Ci avrò lasciato una vita Qualcosa Eh c'è un P1 Mi serve una speciale Jade Mi schiave Mi serve una Jade speciale Dove si va? Via Si va via Se si fa Devo andare via Torno alla casa Tichi Vabbè La foto La foto l'hai fa Certo Sì sì Siamo sulla strada giusta L'uscita è vicina Devi rifare tutto Qui ci vuole il codice di prima Cos'era? Oddio Cos'era? H4 H4 6 S6 Codice corrotto La alternatrice sta correndo molti rischi aiutandoci Spero che un giorno ci sdebiteremo Vediamo se c'è degli animali che non ho preso Ok Perfetto Perfetto Almeno qui Passate là Passate là Passate là Un'altra Sì Prima di partire nello spazio si consiglia di salvare Manuel Med Sì che poi anche quella che è stata lì che non puoi tornare Ora dovrebbe succedere il casino Se ti interessa metto in palio una nuova perla Ma questa non la vincerai mai Mi sono allenato giorno e notte Non piazzerai nemmeno un disco Vaccina Questo è il trofeo Perfetto Però dovrebbe Eh ora succede casino Ora succede casino se non sbaglio Credo lui sia già stato fotografato però Ok Volo perderò di vista Oh sarta Ma invece gli animali qua Su ben tre animali ancora a fotografare E' il trofeo del boss finale senza essere colpito Sfugge salvataggio Sì che poi Boh mi sembra Trofani stupidi Va bene Va bene Va bene Va bene Serpente marines Allora Dall'altra parte Ancora Buoia Sì vabbè Queste poi le faccio Da meta No davvero Ci si diventa sceme Che altro Quella lì Cos'è Qui Lì Qua Qui No di là Ma non è qui Che succede casino È qui Questo covo qua Non ci sono andato Eh no eh Eh no Eh no Eh no Eh no Sembra strano Ah Ok Non è Ladri Ma paravora Ah Eh ma qui ci vuole Page Ma non Non è possibile Non mi di che Non ci posso Vieni più qui No Sì signore Ah ok 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 Veno male Un'altra Tanavorax Anche io ci sono animali Perfetto Karachax Da perla Davanti a noi Sta battendo in ritirata No merda Poi stiamo Sono palesemente Globox Piteers Ancora Vedi la mazza Ha senso per gli animali Ma per le guardie Non dovrebbe Essere usata Vabbè Meno male Non ci hanno messo Le armi A da fuoco Perché se non E ci mancavano Arte quelle Che cacchio sono Sti card E' il manuale Di Addestramento Che lui ci si è fissato No è bello Il fatto che lui Sia talmente fissato Che c'è anche qui Se te vai nella sua Saccoccia C'ha il manuale Vedi il Carson and Peters Non te lo fa aprire Però E' il manuale Che lui usa come bibbia Il manuale di E' il suo punto di riferimento Cioè è bello Dai Fai rire Oddio Ai tempi La trovavo una cosa carina Ora è un po' Un po' Anche meno No Vabbè Vabbè Carson and Peters Il manuale delle regole Per il militare Sì sì Che lui E' per lui una bibbia Grazie Basta Basta Cosa cazzo Basta Oh Oh Mi Sempallato È una roba simpatica Di loro Magari non le ripetesse Fino allo sfinimento Vabbè Però va bene Siamo nel 2003 Ricordati sempre Che siamo nel 2003 Belli Non lo so Non lo so 2003 Sicuramente Bei tempi 2003 Non lo so Non lo so Non lo so Per voi erano bei tempi il 2003 Per me Per me C'è il Jack 3 Jack 2 scusa Cazzo No no Per me Non do Per me Almeno Dal 2004 2004 2004 C'era 2003 Ah madonna Carson Peters Ciao 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 Nen Peters Avevo 3 anni Benissimo Ma come avevo 3 anni Ma mi fate cacare Avevo 3 anni Avevo 3 anni Uscissi da niente il 3 Ma come avevo 3 anni Avevo 3 anni Tanti l'avevo io Ma come poesia Eh Yobu Quindi devo andare All'iris Ok Allora è dopo che succede Il casino forse Non mi ricordo più Animali invece Sono laggiù Andiamo a vedere E anche Mi sono perso Invecchiassero tutti come te Ma non è questione di invecchiare Non è questione di invecchiare È prima del Cioè io sono tanto Distante da voi Comunque Magari ci stavo A quest'ora Cioè A l'una e mezza Di venerdì sera Ci sta Che magari Non lo so Però è bello Che siate giovani E vi interessa Questo gioco Sono bello Sono contento Almeno qualcuno Viene divulgato Diciamo così Ok Ma lì ci sono le perle Ma perché sono il vulcano Le perle Ci devono andare dopo Non mi ricordo E non lo so Cioè ripeto Non è un problema Di vecchiaia È un problema Di Non lo so A constatare Che il tempo passa Ed è tanto Tanto Sono del 97 Potrei essere Tu fratello minore Sì 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 Vabbè Fratello minore Vabbè sì C'entro Allora qui c'è un animale Prima di tenere l'acqua Ah questo Bello il solaris Questa megaptera qui Non l'avevo Ma non è uguale Dai ora col sole Dai fai un salto Fai un salto col sole Accidentate Non è veloce il sole Vabbè Maledetta È rossa questa Fa un culo E il sole è andato via Va 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 Megaptera purpure Grazie ancora Jade Bellissimo Io sono del 2000 Sono cresciuto Acciucciata di tette Sul PS1 Boh Sto gioco Giocato a piccino Scoprì completamente a caso Perché mi fiacco la copertina Nel negozio Eh sì Sì Era bellino Fu il mio preferito Anche per me Stato il mio preferito Per tanti anni No oggettivamente È un giocone Cioè Vedilo come Uno dei primi giochi PS No primi no Sì Mezza Generazione PS2 Era tanta roba 2003 Cacchio Avevo 5 anni Mi stavo approcciando Videogiochi Con il Sega Mega Drive Sì ma Lo sai quanti ne avevo io Nel 2003 Non si può dire Non si può dire Non si può dire 2003 Allora Andrei a vedere là Ma ho paura Che ci si perda Ah no Giusto È la La moschina Raimanensis Eh sì La moschina E invece qui Mi sa che bisogna andare Su Sul vulcano Puttana Sulla PS2 Giocavo a Metaslug Ma io ho mai avuto Metaslug Su PS2 Giocavo Al bar Metaslug Sul cabinato Serve il beluga Per andare nel vulcano Ma per andare Alla moschina No Nel 2003 Avevo 11 anni Mi scordo sempre Di che anno è Kailol Io nel 2003 Andavo 14 Andavo un primo superiore Nel 2003 Porca puttana Porca puttana Porca puttana Nulla se non il video Nulla se non il video stesso Non compare Più l'indicatore Delle visualizzazioni E tutte le informazioni Sul video Non vedo più commenti Nel video Seguire sulla testa Ma con tutti i video Prova pulire la cache Io mi sto perdendo Però Eccola lì Sono una sega Dov'è la moschina Ramanensis Ah no Ok Eccola lì Devo andare A Sinistra Qui Eh no Aspetta Bisogna scendere giù Nel sottoborgo Sono 98 E sembra il tuo padre Io meo Davvero Cosa porti? Aspetta No Devo andare laggiù Non è questa Devo girare Là Ah Là 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 Ok Stai una favola Pochettone Se del 95 Sei matonotto Ma non è un problema Di 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 età dimostrata È semplicemente La La Gli Sapere Di sopassare Tanti anni Quello Non è Cioè lo so Che siamo più giovani Meno male Prima può finire Però No Aspetta ho sbagliato No 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 Vai giù Laggiù Nel frigo Andiamo dal Raiman Sta avendo epifania Pochettone In realtà Se lo vedi C'ha la barba Pochettone Ma se lo vedi Nel viso Non è Allora Eccola qui Guarda chi è Questa stronzetta Che poi sembra Ah Non sembra Sembra il moschino Di Raiman Il moschito La zanzara Di Raiman È Quella Su cui vola Raiman Che è anche Raiman Legend Oh ma te te ne vai Te ne vai Ma ho il tarpone È Sì la tuzia Gravida Avevo trovato Una bella incollatura Succhia sangue Familiare Bene Faccio un backup Ho la pietra filosofale Anzi stasera Sono sciupatissimo Ti capisco Sono nel 2000 E già ho 24 anni Mi sembrava ieri Che avevo 18 anni Il problema è che te Avevi davvero 18 anni Ieri Mi fai un rapido calcolo Oh vai in culo Ah ma è la mosca Che mi rompe Mi fai un rapido calcolo Sai quanti anni fa Avevo 18 anni io No Ti avevi 18 anni 6 anni fa 6 anni fa Ti avevi 18 anni Io avevo 18 anni 17 anni fa Come cazzo è possibile Come è possibile Io voglio Cioè Non è Dici Sono vecchio Io non mi sento vecchio Ma ma no Ma assolutamente Per tante cose Mi sento meglio Di quando ne avevo 25 Cioè È proprio Il rendersi conto Del tempo Che è passato È quello che dà Che fa venire trip Se pensa alla fregatura Il pacchettino di Rai Mi ha preso sul pc Qualche anno fa Giocando in una vera Quale pacchettino Il livello Allego presto Non so Non so di cosa parli Ne trovi Sei più giovane di me Che ne ho 26 Ragazzi Voi vi mantenete male Sono video Non lo so Assumite sostanze Psicotrope Non lo so Dopo la pandemia Il tempo Non è vero Il tempo vola sempre Il tempo vola sempre No È vero che Per tante cose Non lo so Soprattutto Io da quando sono Bloccato in Toscana Purtroppo Davvero Il tempo sta volando Viene Ma neanche Però non è che Cioè Dal 2024 Al 2020 È come dal 2020 Al 2016 Però sì Ho fatto più cose In quegli anni lì Che in questi quattro anni Purtroppo Il capello bianco Non penso C'è niente Quei torcioni Chi lo sa Chi lo sa Secondo me Allora Quello lì Per prendere quell'animale Ci vuole il beluga Vero Ok Ma anche le perle Sì 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 Anche le perle Sì Io senza barba Sembo un bebè Non sa di cosa fa Ti ricordi il livello Di Ryman 1 Per PS1 Quello con le note musicali Eh ma Qual è il pacchetto PC Cioè Hanno fatto un bundle Per PC Di Ryman 1 Vabbè Dai Inculata Già così Sulla carta Io con la barca Sono nato La barca La barba Il tesoro Equiparava il mucone Ah Giusto Sì sì Che si è entrata dal vulcano Sì sì Io la barba Non mi ha avuta Cioè Se l'avevi più diosì Anzi Mi ha aumentata un sacco Cioè A me la barba Da quando fu a palestra Mi ha aumentata tantissimo La barba Guarda Guarda Questo è il mio massimo di barba Eh però Sono sciupato Sulla le zampe di gallina Vabbè Dai Qui c'è un po' Troppa Guerrilla Guerriglia No Stasera sono veramente sciupato Sono aumentati Sono aumentati Avete sentito del traffico Delle squadre alfa L'ho sletto sul numero 513 Inoltre hanno perso tutte le perle Perché appartenevano alle vette Che appartenevano Gli anni cominciano a cogliere la situazione Già Dobbiamo mobilitarci tutti Ah è bello comunque Che ti faccia vedere proprio L'influenza Dei media Sui Sulle persone Le squadre alfa ci hanno ingannato È ora di reagire È anche un po' troppo facile È un po' troppo facile Però vabbè Dammi tutto Anni fa Anni fa Fai uscire un pacchettino Poi da 10 Coprimi due Raman Poi dai su PC Ma senza le host Perché non avevamo più le lice Ah il gioco Senza le host Ma che schifo Ma sei sicuro Fosse originale Ma com'è possibile Dai Ma che burdi Cioè come se fanno La ridizione di Crash Senza le musiche Ma che burdi Ma vaffanculo Cioè Che scammata è Preso allo store di Ubisoft Ma scusa Ma se i diritti Non ce l'aveva la Ubisoft Chi li doveva avere Ma io non lo capisco Io veramente Non ho parole Non ho parole Ciao Andiamo a vedere Cosa lì Cosa voleva Ah questo è per Lo sviluppatore morto Bellino Bellino Rhyman Collection Ma c'è ancora Come sta andando Bene bene Stiamo parlando di vecchiaio Fammi vedere Che sta Rhyman Collection Rhyman Collection Aspetta questa Cos'è Cos'è E' questa Ma questa è US Ma l'avevi presa Digitale Non c'è più Non c'è più Ma che cazzo Ne so Ma che cazzo Dimmi Ciccio bello Salve Minzu Identificazione Conto Ok Qui c'è roba Non mi ricordo Sì devo prendere I numeri di Iris Penso che questo sia Il publisher Che peggio ha trattato Il suo mascotto E' una storia No Sony ha fatto Il peggio Sony Sbattosa Coglioni Però mette Le sorpresine Le cazzatelle I postini Su Instagram I robottini Digitali Come si chiamano Le figurine Scaricate Sbloccabili Va bene 513 514 Bellino Lo chiamerò Paolo Andiamo a vedere Il coso Cos'è Il guanto Di un altro colore L'identificazione Conto Ok Bello Ottimo Guanti pirati Attenzione Questa è roba Di Biong di Devil 2 Che poi scusami Chiamalo Biong di Devil 0 Non chiamare Biong di Devil 2 Scusami Biong di Devil 0 E poi farai il 2 Fra 50 anni Raiman è stato relegato A un gioco per terra Sì è vero È vero È vero È vero Ne lo so Il primo Raiman Non mi è mai piaciuto Nemmeno a me Nemmeno a me A me mi fa proprio cacare Il primo Raiman Raiman 2 insomma Raiman 3 No C'è Raiman 2 Sì Boh Particolare In realtà la trilogia di Raiman No infatti Io Ho Cioè io Ho proprio risettato Con Raiman Con Origin Raiman Origin Sono capolavori I primi Raiman Sono giochi Abbastanza Il 2 Dipende Ma sono visti Molto più Di quello che sono I primi Raiman Cioè il 2 È quello un po' meglio Ma non è comunque Di livello Incredibile Traffico di umani Alla fabbrica di nutripillole Reporter Doppia H E Shoni A detta delle squadre Alfa Le navette Tra la fabbrica E i mattatoi Assicurano l'approvvigionamento Ai nostri soldati Ma i nostri inviati Sono riusciti A infiltrarsi Con successo Ma poi è bello Che ci sono le foto Che hai fatto te Un traffico di umani Cioè Le hai fatte te Queste foto E anche su PS2 Era così Centinaia di vittime Vi sono inviate Ogni giorno Sotto la sorveglianza Delle squadre alfa Cioè su PS2 Era una cosa Incredibile Almeno io Avelo giocato A quelle età lì Mi fece un effetto Incredibile A loro volta Sono controllate Questa foto Ah no Io l'ho fatta Ma era al contrario La foto L'hanno specchiata Le squadre alfa Sono controllate Le squadre alfa Sono traditori Al soldo Servizio della nostra inviata Speciale Shonen Ora sappiamo tutto Sui numerosi rapimenti Che hanno colpito La popolazione Di Illis Le vittime Vengono inviate Ai vecchi mattatoi Sotto la supervisione Delle squadre alfa Una volta lì Sono rinchiuse Nei sarcofagi Dei dom E inviate Sulla luna Beh sta foto Non si apisce nulla Le squadre alfa E i dom Stanno decimando Il popolo Di Illis Poi perché Non mi ricordo Cioè perché Loro fanno Stasera Perché Dobbiamo fermare Questo massacro Hai assolutamente ragione Miss Jade Ma sono troppo pericolosi Dobbiamo tornare Illis Riunire la squadra Ok No mi doveva Dare un trofeo Raiman Forever Fesce sta cosa Il 2011 Mi sono sbagliato Non era per le licenze Ma la causa Fu lo spazio limitato Sui dischi E per questo Mancava gran parte La coluna sonora Ma cosa Ma cosa Ma 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 I falli La coluna sonora Possono essere facilmente Sostituiti Con i falli La coluna sonora Completi E mettono Ma poi Le muse Occupano un pochissimo spazio Cioè mettono in commercio La roba incompleta Ma Ma è ridicolo È ridicolo È ridicolo Sembra una roba Pezzo Capanno Qui mi sa Che c'è una missione Sui tetti Che cosa Ah no Non c'è un cazzo Ok È basse Ah Qui ci devo mettere Il codice Del trippone Oddio Oddio Non me lo riorno più No Aspetta No Cazzo Dio Non è vero Aspetta Forse ce l'ho Biglietto squadre alfa Si può vedere Acuda Non è questo VD V7 D5 Forse è questo Non so Non credo No È il codice Del trippone È il biglietto squadre alfa Quale è il biglietto squadre alfa Non me lo fa vedere Vedi Non me lo fa guardare Ah Ma Sono io che sono stupido Non veniva scritto Boh Sono stupido io Z4 P7 Scusa Sono un cretino Sono un po' stanchino Z Come me lo sono già scordato P7 Z4 P7 È vero C'è un altro mostrello L'ho già fotografato Quello lì No L'ho già fotografato Quello lì Non ho più star Non ho più star Un culo Mi ha rubato il ciccino Ho già fotografato Dai Penso si vedrà Onorevoli Ligliani Ligliani Non credo mi dia altre robe No Ho già dato tutto Va bene Andiamo Bisogna andare da Francis Guardalo Tutti comiris Forza Il garage Non è un problema La vita di Ligliani È il mio cruccio Grazie a te Le cose stanno per cambiare No dai È un bel gioco Dai È un bel gioco È un bel gioco È un bel gioco È questo Mille per la perla Paura Io bono Mi fa il culo Mi fa il culo Ma anche le basse 100 basse Io caro No 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 Hai vinto Ultimo round No Dio bono Dio bono Sgancia Paga Sborsa Trofeo Trofeo Ah ho detto Che il gioco Arte basse Ah sì è bello È vero Non è un gioco Perfetto Ricarica il salvataggio Se perdi così Eviti di perdere No vabbè Ma è un po' Sono ricco Però non mi ha dato Trofeo Ma forse no Ho sbagliato io Non mi dovevo dare Trofeo L'amidischi 13 Ottenuto dalla vittoria Il gioco dei dischi Ma ti recordissa Issam Ma non è lui Ma non è questo Il gioco dei dischi Ma chi è Issam Forse è lui Forse è lui Issam Oh Identificazione Conto Ok È vero che insieme ai trofei Ci sono anche delle piccole guide Sì Però non ci sia più Non in tutti i giochi I trofei Ci sono Le guide ci sono Più che altro Per i giochi esclusivi Sono La solita La solita funzione Del cacchio Ma Issam Chi è È un amidisch Eh ho capito UFLA L'unione Per la forza È Sam E' quello Del mio ammago Una foto col filtro seppia Tutte le zone Della squadra Alfa Comperata la sua prima parte Il gioco delle perle Ok È il gioco dei dischi L'amidischi 13 Ottenuto nella vittoria Il gioco dei dischi Il gioco dei dischi è quello Ah è un gioco sulle amidischi È vero C'era un amidischi Con i giochi Mi saluto Se sono abbastanza stanco Ciao Buonotte Eh sono le due In effetti Cacchio Buonotte Eh allora mi sa Che con me Chiude Non lo so Vediamo Vediamo Sono già a tre ore Eh oddio Non lo so Non so che fa Vediamo Vediamo Ah Jade Doppia H Tempismo perfetto Vi stavamo aspettando C'è qualcuno qui Che vorrebbe fare La vostra conoscenza Governatrice Permettetemi di presentarvi I nostri Sì Ci siamo conosciuti Via email Il suo aiuto Ci è stato prezioso Governatrice Senza quei codici Non avremmo potuto fare niente Sono felice Di poterti finalmente Conoscere di persona Jade I tuoi servizi Hanno avuto un grosso impatto Sulla popolazione Ancora qualche sforzo E sono sicura Che potremo contare Sull'appoggio Di tutti gli illiani Per liberare Il nostro pianeta Dalle squadre alfi Dei dolls Prendi Ti sarà utile Nel portare avanti La tua lotta E tra animazioni Mi fanno Grazie Ci aiuterà a trovare Tutta la gente scomparsa Se non è già Troppo tardi Animazioni proprio Goffe Grazie Settimane 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 Il nostro capo Si mette in contatto Con voi via radio Misure di sicurezza Nessuno finora Ne conosceva l'identità Paige Sei tu Non può sentire Lei è la sputtanata Accalmatevi tutti Richiamerà Non fate rumore Cinghiale chiama Iris Non ho molto tempo Loro sono ovunque Mi hanno portato sulla luna Ecco le mie istruzioni Riferite questo messaggio a Jade La nuova reporter Leggi l'M-disc che ti ho dato E trova la nave Leggi l'M-disc e trova Sta arrivando Io Ti ha dato un'M-disc? Prima che venisse rapita Ascolta Jade Questa nave è essenziale È il tassello mancante Del nostro piano Se la trovi Forse ce la possiamo fare Paige è tenuto prigioniero Sulla luna Probabilmente con le altre vittime Devi andarci Nino ha un piano Ecco cosa faremo Usano un trasmettitore A lungo raggio Per diffondere La loro propaganda Dalla luna Possiamo colpirli nel vivo Trasmettendo i tuoi servizi Sui loro stessi schermi Col trasmettitore A lungo raggio Davvero un piano Eccezionale Trova la nave di Paige Vai sulla luna Porta a termine Il tuo servizio Assumi il controllo Del trasmettitore Trasmetti il servizio E la popolazione Insorgerà E questa sarà La fine Delle squadre Alpha Perché lo guardano male Che dice il Carson and Peters Dice che sarà un suicidio Ma io dico Quando il gioco Si fa duro Ah in tre perle Si si teneva le tette Si Non ho capito Perché tutti Guardano lui In modo cringiato Comunque Sono passate settimane In realtà Non settimane di gioco Da quello che si capisce Sono passati due giorni Cioè il gioco Si svolge in due giorni Anzi nemmeno Un giorno Un giorno e mezzo Però sono settimane Che loro non avevano Notizie di Paige Perché magari Lui Essendo al faro con Jade Aveva un po' abbandonato Non lo so La gatta non sta tipo volando Eh si Lo stavo vedendo No è appoggiata male Mezzo No è vero Sta volando Si sta volando Hai ragione Si sta volando Si I terroristi della rete Iris Stanno diffamando le squadre Alpha Le cosiddette prove fotografiche Apparse nelle loro newsletter segrete Non sono altro che elaborati montaggi Beh I terroristi della rete Iris Paige dice che è stato rinchiuso Per tre settimane No Dice non abbiamo notizie Di lui da tre settimane Non credo Siamo passati tre settimane Nel gioco Cioè alla fine In realtà Anche in un altro messaggio Qui alla rete Iris Grazie Prosecco Buono Prosecco Cinque mesi Voglio Prosecco E Loro Già una volta Hanno detto È da un po' Che non sentiamo Il nostro capo Perché lui si vede Se era un po' Distaccato Per proteggere Jade Non lo so Ma non Cioè Mi sembra evidente Che non sia passato Nel gioco Tre settimane Tre settimane Insomma Andiamo in interruttore L-U-F-L-A L'unione fa la forza Non credo Lo finisci tutt'oggi Eh c'è la missione Della luna Però Ho paura che Ho paura che Se mi metta anche a fare La missione della luna Si va troppo lunghi Effettivamente Sono le due Almeno un'altra ora Anche ora e mezza Di sicuro c'è Quindi forse è meglio Staccare E chiuso Fa un'altra live finale Jade Se ti interessa Ho detto Un po' Un nuovo biglietto Ma questo Non la vincerai mai No Allora andiamo 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 Quante volte Cioè Ma fa tu ship Per farmi Per farmi tornare Dimmi Mi fa una partita Mi ha detto Sì 500 Su Che mi fa vincere Mi sta facendo vincere Quasi niente mi sta facendo vincere Mi sta facendo vincere Mi sta facendo vincere Ok C'è 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 Ah la cassa del baracuda C'è 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 Quella C'è 6 F 6 6 6 Buonanotte Buonanotte Ora la chiudo anch'io Perché c'è Ah è il giochino Eccolo Il gioco sul disco Buonasera Buonasera Gioco sul disco Il gioco preferito Di Francis Devo vincere questo Per il trofeo Per il solito Il gioco è identico Cioè che non cambia Solo la skin Ma che bisogno c'è Va bene Va bene No E sono tutte cose Che Mi rendo molto Che tempi là Andavano Ma Sanno proprio Roba ingenue Hai vinto È finito È finito Ma come è già finito Ma scusami Propaganda Propaganda No ok Va bene Non devo battere Va bene Ciao Ciao Gli anni in cui i dischi Erano il supporto principale Beh Gli anni I dischi sono stati Il supporto principale Fino Beh oddio Ma se io voglio Cambiare il filtro Come si fa? No Non si può Lo devo trovare Vedrai il filtro A meno che Non debba usare La Quella vintage Ah Ah Ti fa vedere Le tue foto Dei servizi Vedi Base lunare Quindi sai già Che è l'ultima foto L'ultima missione È breve È breve Ah ecco Album delle foto Che ho fatto io Bella Questa è bellissima Questa è Ha un Non so perché Questa Insomma E Gli animali Ok Cosa volevo fare? Ah si Per vedere se Scattando una foto Con quell'altra macchia fotografica Mi fa Oh No Mi fa le foto Mi fa le foto vintage E invece si Scatta una foto Filtro seppia Con la macchina fotografica Vintage Gazzo È carino dai Per un trofeo Ci sta Cosa ovviamente Che non c'era Va bene Va bene Va bene Va bene Carino 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 Barista Muccone vintage Li compro Ma ce l'ho già No Oddio Per platinarlo C'è La speedrun Che Cioè Lo devo rigiocare Boh Vedrò 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 Non mi va Di fare la speedrun Andiamo a fare Sta missione Va Questa è una missione Di tetti Questa qui Molto bella Breve anche È l'ultima Oddio In realtà c'è un modo Con cui dobbiamo Finire questa Questa live Va bene dai Domani si fa Il finale Domani pomeriggio Si fa Un'ultima live Finale Con l'uno Un'oretta Un paio Ok Pa 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 ra Pa ra Pa ra Pa ra Giocandoci adesso Dopo tanti anni Come lo vedi Su questo tempo È invecchiato È invecchiato Per tante cose Anche male Però è un bel gioco Lo stesso Il finale perfetto La live è trovare il beluga Eh esatto È quello dove devo andare Ma non è solo il beluga Prima del beluga C'è tutta un'altra roba Che è bella Guarda che bei colori Vedi Cioè per tante cose È comunque ancora bello Comunque 19 euro Li vale tutti Assolutamente Galbabbe sa più quanto costa La versione fisica Su Limited run Però Già quella Secondo me Non vale la pena Secondo me È già un po' eccessivo Anche perché Desidero costarà tanto È un gioco Sì sì È particolare Ma è assolutamente No dico solo che Mi accorgo Che sia un po' Invecchiato Aspetta Cioè ci sono Tanti altri giochi Per esempio Prince of Persia Oddio Anche il primo Invecchiato Però già Spirito Guerriero È molto più Ancora fresco Perfetto Poi vabbè ci sono giochi Tipo Jack and Dexter Che sembra uscito ieri Quasi Costa 35 La versione fisica Limited run E cosa c'è Cioè Ci sarà qualcosa Non ci sarà solo il disco Però dai Non ha senso Difficile trovare i giochi Di quel tempo Invecchiati benissimo Sì è vero 2003 2003 Beh oddio Sì oddio Sì No mi viene in mente Jack 2 Ma Jack 2 È già diverso Perché comunque È invecchiato Jack 2 Cioè è invecchiato Ma a quel tempo Era più permesso Fare certe cose Oggi è un gioco Che stride Per tanti versi Ops Bella sta missione Così è Cosa Schizzato Dassi Mamma mia Se mi Lascio andare Muoio Prendo un gioco Che altri Come stanno in tilt E il capolavoro Ma bisogna dire Che se lo giocassi oggi È invecchiato Proprio a mano Muoio Non lo so Non ho mai giocato Ci sta Tanti giochi Di quegli anni lì Appunto Parostalmente Sono giochi Tipo Metal Gear 1 Per me Non l'ho trovato Invecchiato Nonostante Abba la grafica Pixelosa Bisogna andare a vedere Il 2 Di Metal Gear Sono curioso Ma secondo me Non è invecchiato Anche lì Lo vediamo Oddio Il 3 Il 3 Mi sento di dire Che non è invecchiato Per quel poco Mi ricordo Il 2 Non lo so No Sta missione è bella L'azzo Lo deve ammazzare Lui E poi c'ha bullo C'ha bullo Ma cos'è sta rollo Per esempio Un altro gioco Invecchiato Male Male Secondo me Indiana Jones La tomba L'imperatore Che è del 2003 Anche quello Quello è invecchiato Male C'è un altro Grande gioco Del 2003 Che è invecchiato Però quello Si può chiedere un occhio Tomb Raider Underworld Tomb Raider Angel of Darkness Angel of Darkness Ma quello è invecchiato Già solo Il giorno dopo che è uscito Era invecchiato È senza Il 2003 Un po' meno Il 2 Che quello è buono Metal Gear 2 Ti posso dire Che non è invecchiato Però forse Le meccaniche Il gameplay Oggi Sono un po' Da rinnovare Sì No vabbè Anche il primo Anche il primo Ok Anche il primo C'ha ovviamente Delle cose Un po' Mocchiate Però per tante cose Reageva ancora Vabbè Cioè A me mi è piaciuto Tanto Eccoci Ti sei perso Tesoro Ti sei perso Tesoro Ah un artizio Aia Poi uno Che mi prendesse C'ha 200 pistole Nessuno che mi prende Vado bello L'unione fa la forza Carlson e Peters Pagina 8 2 3 Stava facile La mente Ma bellissima Sta parte Lasciamoli andare Ci condurranno A una ricompensa Ancora più grande Qui a livello Di uncharted 2 Sta parte Viva Colpita E al fondati Al fondati Lui non ha visto niente Le squadre alfa Non sembra Le risolvere Il problema Del rapimento Fa parte Di un'altra Selezione L'esercito L'esercito Regolare È sempre stato Dalla parte Gli anni Ah Qui ti fa capire Che quelli gialli Sono l'esercito Regolare Le squadre alfa Sono Come l'SS Bello Quindi c'è proprio Questo paragone Con l'SS A sto punto Perché infatti Sono neri C'è un po' Di nazismo In questo gioco C'è un po' Di analogia Con i nazisti Se ci pensi Loro che deportano La gente Vestiti di nero Questa roba militare Esagerata Vabbè Bella sì Sì Sto a parte Non me la ricordavo così È molto bella C'è presso il PS2 Tanta roba Poi quello che mi chiedo io È Michelle Ansel Poi Cos'altro abbia fatto Cos'altro ha fatto dopo No cos'altro abbia fatto Dopo questo Perché ha fatto King Kong Il gioco di King Kong Di Ubisoft Basato sul film Di Peter Jackson L'ha fatto Michelle Ansel E quello è bellissimo Però andrebbe rigiocato Anche lui E poi che si ha fatto Raymond Origins Ma Raymond Origins È passato degli anni No 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 Aspetta aspetta Bisogna dire Non c'è capo Michelle Ansel 52 anni Credevo C'è cazzo C'è cazzo Cazzo Ha solo 53 72 C'è 52 anni Allora Raymond Tony Non so cosa sia Raymond 2 Raymond M Vigiamo in Dio Peter Jack Vigiamo in Dio Raymond Origins 2011 Quindi dal 2005 Al 2011 Si sa che ha fatto Le avventure di Tintin Come le avventure di Tim Tim Tintin C'è un gioco Delle avventure di Tintin Che cazzo ho preso Tintin game C'è il gioco di Tintin Nooo Ubisoft Montpellier 2011 Christophe Rall Anche qui È apprezzato Io non sapevo che esistesse neanche Però capisci che è abbastanza Un Cioè passi dai giochi tuoi Da autore Poi quello di King Kong Che è bello Poi questo qui Che c'è Sei una roba Comunque Surtricenza È bello Il film è bello Però questo gioco Io non Voti Beh 6 su 10 7 5 su 10 Insomma bello Non lo so Il video è bello Ci sta però Non so se c'è scritto Al cosa di miscelanza Non è neanche citato Qua su Wikipedia Miscelanza Rayman Django Run Django Run Quelli per telefono Rayman Legend Direttore creativo Rayman Fiesta Run Rayman Adventure Quindi comunque Ha lavorato su Rayman Tutti gli anni Nel 2010 Beyond Gunnedi Ball 2 Direttore creativo Però poi Carciato via E Wild In realtà Wild È uscito No Wild Qual è? Aspetta Wild è uscito È uscito Sto gioco qui Non è Mi ricordo Se è uscito È stata cancellata Secondo Jeff Grabb Progetto cancellato Il team Sta lavorando Su qualcos'altro Quindi comunque Sta ancora facendo giochi Miscelanza Non è andato via Ha lasciato Ubisoft Ma è ancora Annunciato nel 2020 Di lasciare L'industria Ai videogiochi Ha dichiarato Un paio di anni Allora Allora Andiamo via Andiamo a chiudere Questa live Qui non ti dice Nemmeno la missione Sì nave Inserisci codice di page E sulla luna Dimostra la complicità Tra le squadre Tra le squadre alfa Andiamo alla nave E te ci credi Cosa Ma ce l'ha dato via Ah ci credi Che ha lasciato Un buone mani No Cioè magari lui L'ha dovuto di Giusto per salvare la faccia E di qua Quando iniziano a sviluppare i giochi E poi le lascio Le mani d'altra Eh ma chissà cosa è successo Mi hanno detto Se dovessimo uscire Sarà una schifezza Vedremo Vedremo Dai Io Mi Mi ricordavo Che ora succedeva del casino Un bel gas Perché siete tutti scettici su due Vai a vedere quello che avevano promesso Nel 2017 18 Issam è lui Issam è Ma non mi dà Posso fare qualche acquisto Ma il giochino suo Qual è il giochino suo È quello che si apre qua Probabilmente Qualcosa per felicitare I boccheggi Stabilizzatore vuole Più l'astonale Sì Sì questo lo devo prendere Anche se Cioè questo lo prendo Non sapendo che mi servirà Però Prima devi andare alla nave Lui si accorge Che mi manca un pezzo Cioè non dovrebbe essere possibile Comprare questa cosa qua Che ti spoilerà Quello che sta per succedere Capito Però vabbè Vabbè Compriamo un po' di roba Identificazione Conto Ok Un meca impulsore Aumento Ottimo Una capsula turbo Triplica temporaneamente La velocità Un set di P.O.D Ripristina Completamente L'energia Del Perché è stato un gioco In teoria In sviluppo del 2007 Sopra è stato Fatto un tiro in mola Continuo Prendendo la scusa Delle console Non adatto a più Sì in realtà Il gioco A quanto si è capito Il gioco del 2007 Era un sequel Poi il gioco È stato Cancellato E il progetto È ripartito Nel 2016 17 Con un'altra idea Quindi il gioco Cioè io Quando si dice È un gioco Che In sviluppo Da più tempo È superato anche Duke Nuke In realtà non è vero Perché Devi ripartire Dal 2017 Non devi partire Dal 2007 Quello del 2007 2008 Era un altro gioco Però è vero Che comunque Perché non lo hanno Cancellato anni fa Io credo Non abbiano mai detto Che quello del 2008 Era stato cancellato Ma probabilmente Ormai Ormai era chiaro Però Quello del 2017 È un'altra roba Ripristina l'energia Di un cuore Il POD Riparatore Ripristina l'energia Del veicolo Il POD Riparatore Ripristina l'energia Del veicolo Di un'attacca Fanculo Bastavi Ha detto a Ubisoft Che questo gioco Non è mai stato cancellato Ma anche quello del 2008 Non ha mai detto Che era stato cancellato Non ha cercato Una notizia Tipo del 2014 Vediamo un po' Beyond Good And Evil Do Evil 2014 Vediamo se ci sono notizie 2024 2024 No 2014 2024 Allora Boh 2015 Aspetta C'è un modo Per avere Le notizie Su Google Solo antecedenti A una certa data Aspetta Google Find Only Date Before Ehm Ehm Ma che cacchio si fa? Qualcuno lo sa C'è un modo Dismount C'è scrive Dismount Year Non è questa roba Ehm Buono L'ho trovato Tempo fa Ti basta andare su Wikipedia Ci sono Le fonti D'article Aspetta Aspetta Before Ecco stai Before Before Ok 2000 2015 Ok Scriviamo Before 2016 Beyond The Evil 2 Before 2016 Ecco Trovi solo le notizie Prima del 2016 Allora Nel 2010 Beyond The Evil 2 È ancora Sviluppo Però Il riferimento Va a quello Del 2008 Yves Guilmau Ha dichiarato Che lo sviluppo Di Beyond The Evil Non è mai cessato Nel 2010 Tuttavia la sua prudenza Appare piuttosto comprensibile Ci stiamo lavorando Ci stiamo lavorando Io vorrei sapere Un giorno arriveranno Arriverà Verrà fuori Quello che avevano fatto Nel 2010 Di sicuro Prima o poi Verrà fuori L'intenzione di dare vita A qualcosa Davvero entusiasmante Ma ci è bisogno Che tutti abbiano Un po' di pazienza 14 anni dopo Non è ancora uscito Beyond the Evil 2 Nel 2013 Ah Ok Cercate Ma cos'è YouTube Vabbè Nuove dichiarazioni Su Beyond the Evil 2 Nel 2014 2013 2014 Cos'è Aspetta È un forum 2014 Boh Ma non c'è un cazzo Continua su Playstation Beat Non esiste Ah esiste ancora Playstation Beat Boy Nuove dichiarazioni Su Beyond the Evil 2 Primo agosto 2014 Ancora presto Per svelare Nuove informazioni Quello che possiamo dire È che Miscelanzi E dei ragazzi Stanno lavorando Per offrire A giocatore Un gioco Che sia molto più Di un sequel Nel 2014 Tecnicicamente All'avanguardia Innovativa Eccezionale Siamo molto entusiasti Di come stiano Andando le cose E poi nel 2017 Sono venuti fuori Con quel nulla Che hanno fatto vedere Cioè 2014 2017 Sono tre anni Eh 2013 Beyond the Evil 2 Non è stato cancellato Monkey Ball Banana Rumble Io lo vorrei provare E Yves Guilmò Dice La prossima volta Che ne parleremo Dovremmo avere qualcosa Di nuovo Il 2013 Possiamo ritenere Ufficialmente conclusa La pausa Nello sviluppo Annunciato nel 2011 Ma questa convinzione È già sorta Inizio febbraico La comparsa Del titolo Indicato per marzo 2014 La ricomparsa Del titolo In prossimità Della presentazione PS4 È stata vista Come una conferma Dello slittamento E 2012 Ubisoft Ha chiaramente indicato L'intenzione Di portare il titolo Su un next gen E due Sono passati Dieci anni Un dodici Vista la complessità Raggiunta dal progetto Sarebbe però Il secondo salto Generazionale Dopo due partenze Fine In un nulla Di fatto Finita In un nulla Di fatto Mamma mia Quindi dalla PS2 Perché era stato Annunciato per PS2 Non credo PS2 PS3 Ma non credo Sia stato annunciato Mai per PS2 PS3 PS4 Boh Quando un progetto Viene sballonzolato A te Da 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 Se manca Spesso il risultato finale Non è esaltante Cioè E nel 2000 Cioè Praticamente potrebbero Annunciarlo Ora per la PS6 Siamo ancora qui Fu annunciato a fine epoca No Nel 2008 2008 era C'era la PS3 Sì sì Il teaser di 15 anni fa Si è visto la prima live Ora non lo voglio Rimetti ora Però c'è È imbarazzante Questa cosa Ma perché Ma io non ci credo Che nel 2014 Avessero robe Promettenti Se poi nel 2017 Hanno fatto vedere Quella roba lì Non è possibile Questi non hanno fatto Un cut Cioè O è andato tutto A puttane Proprio Ogni mese Resettavano Se no Non è possibile Che questi in dieci anni Hanno lavorato A cose Che non si sa Cosa sono Vediamo Sviluppo Allora Ubisoft Date le scarse vendite Ubisoft dimostrò Più riluttante Poi riluttante A investire In un eventuale serie Abbiamo congelato Di fatto Congelando di fatto Qualsiasi voglia Qualsiasi voglia Quando in un'intervista Kong al 2008 Ha lavorato Ha lavorato a questa Roba qui Che poi è sparita Poi dal 2008 O comunque Diciamo 2009 2010 2011 Ha lavorato A Rime and Origins Che poi è uscito Poi Legend Quindi non è vero Non è vero Che ti hai lavorato A Biongo Dandy Vault 2 Nel 2013 Se dovevi far Rime and Legend Non è vero Magari nel 2014 Hanno fatto qualcosa In tutti questi anni Nessuno in sede Ma infatti Secondo me Loro non hanno fatto Un cacchio Loro Secondo me Davvero Il lavoro È ripartito Da zero Nel 2016 17 Infatti Allora Qui in poi Sullo stato effettivo Dei lavori L'incertezza Aspetta Da qui in poi Sullo stato effettivo Dei lavori Calò l'incertezza Alimentata Dalle dichiarazioni Contraddittorie Di Ansel E della Ubisoft Infatti Il direttore Affermò Di aver messo Da parte Il lavoro Su Biongo Dandy Vault 2 Per potersi Ridicare A Rime and Legend Ubisoft Riportò Poi che Ansel Divideva Il proprio tempo Tra lo sviluppo Di Biongo Dandy Vault E quello di Wild Ma Wild È arrivato dopo Un titolo sviluppato Da Wild Ship Studios Senza lo stesso Ansel Senza il convergimento Di Ubisoft Che pare Però S'è stato cancellato Ma questo Ansel Mi sa che è uno Che li parte Il cervello Di dieci secondi Tipo me Alla fine 2016 Ansel pubblicò Sui social Delle immagini Del gioco Mostrando un giovane Page E suggerendo Perciò Che Biongo Dandy Vault 2 Fosse in realtà Un prequel Quindi vedi Dal 2016 Hanno resettato Tutto L'Ubisoft Dichiarò Che da subito L'annuncio Del gioco Scusate Sono cotto Riesco a leggere L'Ubisoft Dichiarò Da subito L'annuncio Del gioco Mostrando Il primo trailer Durante la loro Conferenza E tre 2017 Confermando Inoltre Che sarebbe Trattato Di un prequel Del primo gioco Con stesso answer Dichiarò Che tutti Tra le precedenti Fossero stati Realizzati Sulla scorta Del fatto Che il titolo Stava pensato Come un sequel Ma che durante Lo sviluppo Hanno infine Optato Per cambiare Direzione E fanno Un prequel Ma poi Lavora a 14 anni Sulla solita idea Ma come fai Ma come fai A lavorare a 14 anni Sulla stessa idea Per forza Viene fuori Un troiaio Le piattaforme Giacono Non sono state Non c'è Il primo Space one Sì Io credo Che non uscirà Mai Ragazzi Ha voglia Di mettere La roba Qui Svelta Miss Jade Forse C'è ancora Tempo Ma scusa Il faro Viene distrutto Nel momento In cui Io compro Lo stabilizzatore Di volo Quindi Se io Non compravo Lo stabilizzatore Di volo Garage Mammago 2 2 17 2 17 Andiamo qui Sei ancora Alive Eh sì Sì però Ora si chiude Vedi Il faro c'è Nelle migliori Di casi Potrebbe uscire Potrebbe uscire E rivelarsi Un gioco Di scena Ma io Dalla parte Spero che Esca Almeno si pone Fine a questa Storia Però Non ho nessuna fiducia Posso fare un paragone Con Fumito Ueda Sì Ma al contrario Ueda si prende il tempo Sì però Di Ueda Sono tutti capolavori Siamo convinti Possiamo stare tranquilli Che il prossimo gioco di Ueda Sarà un capolavoro Certo Ormai siamo a 10 anni Cioè fra 2 anni Siamo a 10 anni Da The Last Guardian Anche un po' rotto Coglione Fumito Ueda Però Oh va bene Dai Mettiti 10 anni Però poi fai dei capolavori Invece Mi dice Anzi Cioè io non lo so Mi sa che la foto Di cui parla È quella del padre Di Jade Con Paige Maialino Piccino Sulla sua spalla Baby Pe Come è scritto Paige Paige Eh boh Non lo so Baby Paige Questa Sì me la ricordo No aspetta Non è questa Non lo so Bisogna vedere I social Non lo so Non lo so Non lo so Bisogna vedere I social Dimissionazzi Sicuramente Questa Questa Questo qui Questo Questo qui Sì e questo è del 2016 Questo Palesemente C'ha lo stile Della roba Presentata Nel 2017 Quindi è chiaro Che stiamo parlando Di un progetto Che è nato Ripartito da zero Nel 2016 Poi io Boh Il problema Se mai uscirà Avrà quella direzione lì Sarà davvero Un open world Boh Io spero Una roba lineare O sì Boh Lasciate un buone mani Eeeh Stai approfondendo Ansel Sì a me pare Che gli abbiano rotto Più le palle A lui che Arthur Secondo me Anche Michel Ansel Uno che Come si vede In realtà Dai Dai Da dietro le quinte Di Beyond The Devil 2 Uno Che si è visto L'altra sera Nella prima live Si capisce bene Che è un gioco Che ha avuto Dei cambi direzionali Continui Cioè addirittura Loro Pochi mesi prima Dal lancio Avevano fatto Una skin nuova Perché proviamo La skin rossa Ma cosa cazzo fai Quindi Cioè secondo me Veramente E' anche lui Forse Che cambia idea Uni dieci secondi E non è mai sicuro Di quello che fa Probabilmente Non lo so Non lo so Mi dà l'impressione Di caos Boh Cioè poi Se l'hanno mandato via Magari E' proprio perché Con Beyond The Devil Lui ha rotto Coglioni Tutto il tempo A un certo punto Mi sono detto Vai via Se no Sto gioco Non si finisce Mai più Cioè si sta Che sia andata Così Alla fine Visto che L'hanno presentato Alle tre Con tanto Di fanfare Di trailer Due trailer Che chissà Quanto gli son costati Quei due trailer Lì bellissimi Il sito La pubblicità Quindi magari L'hanno mandato via Per quello Che ha detto Qui se no Non si fa un cazzo Quindi non lo so Io Non so che dire Lui ha risposto A tutto per filo e per segno Una persona colpevole Non risponde così pubblicamente Sì infatti poi L'hanno accusato Di Insomma Di trattare male La gente Non lo so Come play dead Ogni progetto Ha un senso La gente Era invidiosa Un sacco di cose Sì 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 Diceva che lui Trattava Cioè insomma Faceva Insomma Mi viene la parola A me sembrano Sono idee Buzzate Poi si è cercato Il clamore tecnico Sì 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 Non lo so Cioè quando hanno fatto Vedere il trailer Incredibile Poi hanno fatto Vedere la demo Che era una roba Che palesemente Avevano iniziato La settimana prima Una roba Che non andava Faceva schifo Con movimenti Cioè Diceva che cazzo È sta roba Quindi io Sono veramente Da una parte Voglio che Finisca Questa storia Il biongo del devoluto Così si vede Come va a finire Ma da una parte So già Non ho fiducia Per me Ubisoft Ha preso Anze L'ha messo a sedere Sul divanetto E gli ha detto Con accento Superlivonese Senti io già Se lo fò Però mi devi fare un gas E non rompi il cazzo Può darsi Può darsi anche quello E magari lui Si è un po' Impuntato In tutti i modi A avere una sua visione Però mi dà molto Anche l'idea Di uno che non ha Molte idee chiare Poi non lo so Io che cacchio Insomma magari Non è vero Può darsi che io Abbia questa impressione Sbagliata In base a quello che Gira sul web E magari un'impressione Sbagliata Però da quello che leggo E quello che si vede Anche nel backstage Di biongo del devoluto Mi dà l'impressione Di una persona che Cambia idea Ogni dieci minuti Poi non lo so Allora ora il faro c'è Scusate Non volevo dilungarmi troppo Il cacchio si entra Qui Che se io vado Nel faro È tutto a posto Qui è tutto a posto Ok Un post racconta come ai tempi Di Ryman Origins Un sacco di gente Ubisoft era invidioso Perché il suo team Stava facendo un gioco bello Mentre gli altri Che hanno fatto L'avventura di Tintin È andato malissimo Sì Può darsi Stato Mi ricorda molto La Apple Dei tempi del Macintosh Che divisero Il team Apple 2 E il team Macintosh Che si stavano sui coglioni Perché quello del Macintosh Erano Cioè davvero Facevano una cosa incredibile Però snobbavano gli altri Quindi scrivono questo casino Allora bisogna Ecco spingi Perfetto Qui ci vuole il codice Che è quello sulle scarpe E Oddio Dov'è? Qui 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 X7 T5 G4 D5 X7 X Madonna Lo sono già scordato X7 T5 X 7 T5 Come è errato? Sì il fare è ancora sano Sì infatti sono curioso Per vedere sta cosa Bellino l'artwork Se ci fa un video Anche solo un reel Su sto gioco? Eh Me lo vediamo in 7 Non vedo la canale Reel Io non li supporto più i reel G4 D5 G4 D5 G 4 D5 C'è un altro? C'è un altro? E tre volte X7 X7 T5 No? Allora va messo qui? No vedrà va messo Qua giù La vuoi te? Dove poi ho nascosto la nave? Te ne avevo già parlato Stavo solo nell'amidischi Che mi ha dato alla fabbrica Se me lo permetti Potrei guardare l'amidischi con te Forse posso aiutarti A decifrare La informazione precisa La base non è negativa Mi esce So solo che di recente Ho inviato un carico di materiale Lassù C'è un altro quadro Purtroppo Nel cesso E un è qui Nel cesso Nel cesso Non mi ricordo No non mi è piaciuto Cioè oddio carino però Suggerimenti? Il pannello Se solo le avessimo presi Ma ce l'abbiamo le scarpe? Sì vabbè Eh ma Boh Non mi ricordo Dove c'è la barca ormeggiata C'è un pannello? Ma guarda bello Ma guarda che bellezza però Guarda bello Ma che spettacolo Grazie 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 Nel faro? Io non mi ricordo Non mi ricordo Se fossero due Sicuramente Ma ancora Mandano il solito audio E una settimana E mandano il solito audio In continuazione Invitandoci a partecipare Agli esforzi bellici E unirci Alle squadre Alfa Onorevoli Gli anni Sì vabbè Nella stanza Al letto Qui Come era X7 Non me lo ricordo Più X7 T5 Che memoria di merda Mi sento il culo X7 X7 T5 Olè Wow Brigitte ha detto Il fare bambini Se è bacato Un bagnetto Vi condurranno Alla gloria Gloria Perfetto Miss Jade Ora possiamo Aprire la porta Dell'hangar Ma che bello Sì 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 Il fare viene Distrutto Il momento in cui Si compra Stabilizzatore Però Non dovrebbe Essere possibile Comprarlo Finché non trovi La nave È un po' Stupida Come cosa Ecco il tasto Che c'è 20 anni Page Me l'hai tenuta Nascosta Per 20 anni Sono certo Che voleva Solo proteggerti Loro hanno usato Questa frase In inglese Nel trailer Nell'edizione Dei 20 anni E qui Cosa ci metto No Questa non c'era L'originale Boh Cosa ci metto Qui Cosa lo apro No Mignamento Illiano Però Così No è quello C'ho io Ok Bello questo Diventa anche La mano bianca C'è più chiara Boh La cosa tipica È che sempre È che sempre Un post su Instagram Diceva che dopo Beyond 2 Voleva fare anche Rhyman Qua si Guarda Lasciamo Stag Guarda Lasciamo Perde Lasciamo Perde Veramente E Non ho Codici Meno che No 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 Non lo so Non lo so Boh Ah qui forse Il coltello Questa è roba Che non c'era Nell'originale Questo è il coltello Della scimmia Ecco il codice W8J4 Il coltello Si starva io non credo che fosse Occhiali d'astronauta per bambini Un altro codice G6J4 Mappa per il passato Mappa per il passato Quello è l'isola nera Con il vulcano C'è missione in più Missione nuova allora Informazioni su Nox Mamma mia che casino Sono confuso C'è dimmi Bel lavoro Non vola mai Non ce la fa Non so controllarla Se vogliamo farla decollare Ci servirà uno stabilizzatore di volo Per ogni reattore Ecco e ora qui lo potrei comprare Invece io potevo L'ho comprato prima Nel frattempo scoppiava tutto Aspetta 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 Informazioni su Nox un breve intervento del generale Keck capo supremo delle squadre alta che ricorda ancora messa in pista su youtube Paige custodisci questi M-disc per Jade e quando sarà giunto il tempo parlale di noi mostrale questi miei disegni così che possa vedere la sua famiglia pirata come la vedo io so che posso contare su di te sei molto più affidabile di un certo scimpanzé di nostra conoscenza che incosciente parlo di Nox ho perso il conto delle volte in cui l'ho trovato svenuto nel nido del corvo eppure vorrei che non cambiasse mai ti copre sempre le spalle e ti tira fuori dai guai anche se te ne crea altri poi nessuno ha mai fatto ridere Jade come lui per tutte le peripezie che hanno condiviso Jade e io ce la stavamo solo spassando Dax direbbe solo lui può chiamarmi Dax senza finire nei guai Nox nessuno di noi scoprirà quante ne hanno combinate insieme alla fine però Nox era il cuore della gada un ribelle fino al midollo quando le parlerai di lui raccontale di tutti i bei momenti che hanno passato e di come le ha dimostrato di riuscire a vedere il bene in tutte le persone Paige a prescindere da cosa dica Nox ricordale che quella lama arrugginita che le ha regalato per il suo compleanno non si usa per mangiare Ma Jade non si ricorda nulla Che comunque è ok che era bambina ma se ne dovrebbe ricordare di lui No? La madre di Jade non dovrebbe essere una mezzaliana Bu Che bello Questa roba qui non c'era nell'originale questa è roba del 2 che è stata aggiunta in questa edizione Jade è persa la memoria non ricorda nulla Sì ho capito però Sempre un posto Smentisce che cambiava sempre idee ma erano gli arti non faccio più con me No vabbè lasciamo stare In francese Va bene basta andiamo a finire questa live che è troppo lunga però d'altra parte dai Meno live possibile Allora al fare ancora integro Ora si va a comprare la cosa Ma quindi non è che si vedono mai esplosioni Cioè scoppia il faro si sentirà una botta Compriamo il coso Cos'è? Cosa c'è? Arti skin Ah la skin del beluga Questo finiva facendo presumere che Jade fosse per metallia Sì sì Cioè faceva capire che c'era un collegamento Diciamo Infatti lo voglio vedere come va a finire Perché non mi ricordo più qual era Cioè era lei Cioè non si capiva Secondo me era buttato lì Non era Non era spiegato Venduto Interpenti ray Va bene Possiamo far atterrare la nave Ah c'è la piattaforma dietro Ecco a cosa serviva la porta Va bene Eh no L'ha preso tutto Visto che hanno messo il disclaimer Sì 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 Hanno messo il disclaimer Che dice Eh c'è una rappresentazione Passata Non mi ricordo ma C'è un disclaimer tipo quello di Disney Plus Che ti aspetti a rire una bomba maratona Uno scoppio Scusa scoppia il faro Uno scoppio metticelo Boom Che ne so Oh finito sordi Guarda qua Ho comprato troppo roba Ah vedi qua Tipo boom Una botta No Niente Il mamma è molto azionizzato Ah ok Business gate at best Ecco qui Boom Ho firmato Qualcunè E il faro Doppia l'acca E il faro L'hanno distrutto I bambini Ma chi le va va Forse c'è ancora tempo Beh metti una botta Fai vedere l'esplosione Vabbè Fichissimi riuscironti con la musica Tipo buon mare Sì no è bello È bello Vabbè censurato Ma in realtà cosa c'è da censurare Scusa Cioè perché c'è Perché Perché Cosa c'è da censurare La porta è chiusa Ma cos'è successo qui Ah l'hanno chiusa Proviamo a fregarci del faro Ma quello lì non lo devo fotografare davvero Proviamo a fregarci un attimo del faro Non credo possiamo Spero Possiamo fregarci E' ora di un bel volo di prova Ma veramente Veramente Ma veramente Io posso Fregarmene del faro Fa un culo bambino Eh lo so lo so lo so Ma infatti C'è un bel firmato anche Bello Poi il tema musicale è bellissimo Ma veramente Ce ne sbattiamo i coglioni del faro Dei bambini Di tutto Ma non dovrebbe essere possibile Io non sapevo che si poteva fare Perché ovviamente Quando lo giocai ai tempi Andai subito al faro E questo è qualcosa di simile Alla visione originale del gioco Poi però se t'avvicini alle case Ti accorgi che sono Sottodimensionate Ovviamente sono troppo piccoli Perché sono oggetti di sfondo Non sono Però è bello Cioè questa cosa qua Deve venire a tenere a fuori di testa La città Non si sa mai Page Ah giusto Che loro pensano che sia Page Non si ammaggiano d'oggi Cosa fosse eliminare Vi risentivo il 4 Non so cosa ben eliminato Adio santo Ancora Sì c'è solo questo Credo di combattimento in terra Anche perché poi Si va sulla luna Non mi la ferla Oh Ma quindi io Posso andare sulla luna? Posso già andare sulla luna? Veramente No non posso La capacità di Illys è troppo forte Ci serve un motore stellare Per avere abbastanza potenza Bisogna comprare il motore stellare Da mammago Vabbè andiamo a vedere Questo Questo benedetto faro Certo è Bristizia Sto cosa però Vabbè Andata così Sì il vulcano si farà domani Dai Questa live è troppo lunga Andiamo a vedere il filmato Prima di essere troppo tardi Nel T4 c'era un personaggio Spagnolo Super stereotipato Che ne remake Sono completamente ridimensionato Sì però Qui in realtà I mammago Non neanche sono stereotipati Sono dei Dei rinocere Oh antirasta Cosa c'è di stereotipato? Un fan Non mica vede che si drogano Che si cannano Sono così Cioè Oddio Oh mio Dio Oh no Oh no Ma perché Perché hanno fatto Sto Sabe Ma si può Ma vedi che questi Vuoi vedere che questi Vuoi vedere che questi Nel codice Non avevano previsto Nella remaster Che quando te Decollavi Col beluga Saresti potuto Saresti potuto Tornare al faro Porca troia Ti devi avere fiducia Ti devi avere fiducia Nel primo Nel D.Vol 2 2.56 Ma come fai Adesso Mi sa che si è caricata Ma la mappa Vediamo Vediamo chi ha ragione Ci può tornare A meno Che mi ha capitato Ma Quello spero Sarebbe molto grave Ma sei sicuro? C'è la prova del 9 Chiudiamo proprio il gioco Non riuscirà mai Ma mi dico Dove dare A me non mi è mai capitato Ma hai provato? Perché io non so Se sono mai tornato Al faro Dopo che decolli Col beluga Ma è male che vada Si prende il sabotaggio Di prima Però Sabotaggio online Jersey State Non capisco Sarebbe Proviamo ad andare via A ripartire Forse ha buggato tutto Scimini Il sabotaggio online Che non sia il same state Non capisco Può di È come l'accelerazione Dell'overcraft C'è il tasto Per sparare E persino I retrorazzi Nessuna nave Dell'esercito È equipaggiata così Artitudine massima Limite massimo Di potenza A terra un po' Guarda Che schifo È buggato così Loro non hanno previsto Che si possa tornare Sull'isola Hai rotto tutto Andando via Prima di controllare i bimbi Può darsi Può darsi Comunque Voglio Cioè vuol dire Che comunque Non hanno fatto Il testing Adeguato Cioè Non è che so io Che ho sbagliato Attenzione perché Ora mi sa Che si è fatto Ancora più casino Porca troia Prendiamo Il sabotaggio Più vecchio Oh no Oh no Ho rotto tutto E ho perso Non ho salvato Quando avevo salvato L'ultima volta Non ho più Fatto Salvataggi Manuali Ma sono Pazzo No 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 C'è Ho rovinato tutto Prima di andare Arma a mago Dai Vediamo se si salva Andando Arma a mago Prima Che oltretutto Non ci possa andare Se non ho abbastanza Dai zitto Per dio Andiamo ad andare Arma a mago Ma non credo Di avere abbastanza Perle Un errore Genere No Non è accettabile Cioè Magari lo fixeranno Però Cavolo Non credo No Bisogna andare A fare L'artmissione Eh no Non ce l'ho Vedi 30 Non ce l'ho Non ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Proviamo Andiamo al motore stellare Ottimo Jade Il problema è che a questo punto Non si è visto il filmato bello Che era l'unica cosa che volevo fare Prima di chiudere la live Vediamo cosa succede adesso Vediamo se si può tornare Al cose Che cacca Cacca Che cacca Spazio Ora possiamo andare Nello spazio Non perda colpi Però Andiamo anche qui Ovviamente non posso Madonna che rimbarzo Terra Oh e male che vada Si guarda il filmato Su YouTube domani Certo È veramente triste Run salvato No vabbè Si può andare avanti Di sicuro Però non si può più Andare qui Spazio forte Montrese Si va bene È tutto perduto Si Ma è possibile che sia Perché non ho Non sono andata a vedere Il filmato dei bimbetti Che porcata Mamma mia Se vedevi la cutscene Non si buggava Ho capito Ma è il gioco Che mi ha permesso Di non guardarla La cutscene Io ho voluto Testare E mi son filato Troppo di Ubisoft Ma pensa te Niente 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 Cazzini È la scena più bella È Joe Che 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 schifo Però dai Che schifo Pensate che Sarebbe bastato Non sovrascrivere Troppo Ogni volta che c'è Un cambio di scena Lui si sovrascrive Il salvataggio E L'ho fatto troppe volte E mi ha sovrascritto No ve lo guardate voi Lo metto domani All'inizio della live Mi ha divertito Più questo Ragazzini Sì no Questo è Per la scienza Per la scienza Sappiamo questa cosa Però cavolo C'è ancora un Controllo beluga Attenzione Forse Perché non ho visto questo Sì vabbè E' ben finito Vabbè Basta Ci si vede domani Il pomeriggio Si finisce Si fa la missione Finale sulla luna E il gioco Ce l'ho Puppiamo Buggato Magari Lo fixeranno Magari fanno Un fix Certo Boh Angosciato Mi sono rimasto male Oh La storia L'abbiamo fatta Anche stasera Comunque Che tanto Proviamo a tornarci Giusto per scrupolo Magari salvando E guardando Le medische Forse Poveri bambini Va bene Va bene Spero lo fixino Spero lo fixino Che vi devo dire Buonanotte Si vede domani Con il gran finale Almeno si vede Come finisce la storia E vi metto all'inizio Anche La cazzina Di stasera Ciao Ciao L'abbiamo a L'abbiamo a L'abbiamo a